ok la registrazione è partita perfetto allora cominciamo con con il nostro incontro prima di tutto al nome dell'inuxemina vorrevo ringraziare tutti coloro che hanno accettato di partecipare a questa tavola rotonda e tutte le numerosissime persone che si stanno connettendo diciamo live a questo incontro o qui su zoom o sulle pagine facebook dove il nostro incontro è anche trasmesso in diretta come inuxemina noi normalmente facciamo i nostri incontri in inglese però negli ultimi anni abbiamo anche promosso degli incontri internazionali in altre lingue l'anno scorso abbiamo avuto un convegno di quattro giorni in lingua spagnola l'anno all'inizio dell'anno prossimo il gennaio 2024 avremo un altro convegno di quattro giorni in lingua francese preparato dai nostri colleghi francofoni a cui invito tutte le persone presenti a partecipare che farà un punto importante sulla ricerca sul secondo tempio legge cristiane in 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 francia non abbiamo ancora fatto nulla propriamente in italiano quindi questa è un po' un anteprima e io pensavo che si potrebbe fare questa rimpatriata magari un paio di volte all'anno ecco sfruttando il la possibilità di incontrarci online quest'anno siamo questa volta siamo riuniti per discutere un testo molto interessante sul Gesù storico ma anche per discutere più in generale sulla ricerca internazionale sul Gesù storico e poi anche in particolare sulla ricerca portata avanti in Italia tra noi ci sono persone conosciutissime quindi non perderemo il tempo a introduzioni formali anche perché il nostro vuole essere un incontro molto informale fra amici e cominceremo con Adriano Virgili che ci darà un po' una paronamica dei temi principali del del libro seguiti da Pierluigi Piovanelli dal Canada che inserirà la ricerca sul del del Gesù storico nel contesto più ampio del del lavoro di questi autori sul 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 campo e poi avremo una serie di interventi di una decina di minuti ciascuno da parte del gruppo dei panelist che è stato invitato a a a contribuire a quel punto dopo due o tre minuti di di intervallo apriveremo la discussione a tutti e per un per un incontro diciamo più informale al quale eh chiediamo di far parte anche a alle persone a diverse persone che si sono unite eh tra i tra gli ascoltatori e che so avranno avranno certo voglia occasione anche di partecipare e contribuire alla discussione quindi non non diciamo non perdo ulteriore tempo per le introduzioni vedo che tra le persone eh connesse c'è anche la la signora Gabriella Nangeroni che eh eh ha sponsorizzato e promosso molti la salutiamo con grande con grandissimo affetto e la ringraziamo per tutto il supporto che ha dato in questi ultimi dieci anni e che continua a dare alle attività eh internazionali dell'Inno Semina quindi grazie grazie signora Nangeroni veramente di cuore eh da parte di tutti noi eh do subito la parola a Diano per il primo intervento. Eccoci allora io eh in questo mi sentite sì sì vedo che sono verde ok allora in questo intervento semplicemente ehm voglio offrire una rapida presentazione del volume di cui oggi si discuterà vale a dire Jesus a life in class conflict che è uscito in inglese per i tipi della Zero Books nel febbraio di quest'anno e eh porta la firma di due studiosi eh emergenti diciamo nel panorama della ricerca del Gesù storico che sono James Crossley e Robert Miles. Si tratta di una ricostruzione della figura storica di Gesù scritta con un linguaggio molto scorrevole condito anche con una qualche ironia che ne rende la lettura piuttosto godibile. Allora diciamo che Crossley e Miles si muovono in una linea di indagine di stampo marxista che nella ricerca eh del Gesù storico ha avuto tra i suoi fattori più recenti il compianto Morris Casey che eh a quanto mi risulta di Crossley è stato anche il maestro. Eh gli autori si propongono di dare un contributo essenziale alla nascita di una next quest eh su della ricerca del Gesù storico che sappia liberarsi da quello che nella loro opinione è un fardello che pesa eh sulla sulla ricerca stessa sin dal diciannovesimo secolo vale a dire la sua impostazione tendenzialmente borghese che punta a ricostruire la vita di Gesù come quella di un grande uomo del passato capace con le sue idee e le sue azioni di influire in modo determinante personale nella storia. Allora la ricostruzione della vita di Gesù proposta nel volume vuole essere invece una ricostruzione dal basso. Inizia pertanto prendendo in esame l'educazione del Nazareno sullo sfondo delle condizioni sociali ed economiche della Galilea del primo secolo. Per gli autori nonostante l'apparente prosperità e tranquillità di cui secondo alcuni studiosi la regione vodeva sotto la tetrarchia dei rovode in realtà questa era questa era all'epoca segnata da un profondo conflitto di classe tra le popolazioni rurali e l'elite cittadine. In questo contesto quello di Gesù fu uno dei diversi movimenti millenaristici come quello di Giovanni Battista in quel frangicente cercarono di dar voce e speranza alle rivendicazioni sociali delle masse contadine oppresse. Come già detto invece di dipingere Gesù come un grande uomo della storia gli autori cercano di ricostruirne la vita in modo secondo loro più plausibile come quella di un organizzatore religioso socialmente credibile emergente dalle classi ebraiche non elitarie e come figura le cui idee e le cui speranze erano il prodotto degli interessi della classe contadina della Galilea. Secondo Crossley e Miles facendo proprio le credenze millenaristiche e messianiche dell'imminente e drammatico intervento di Dio nella storia umana per trasformare il mondo in meglio il movimento di Gesù avrebbe agito come un partito politico rivoluzionario con un proprio nucleo direttivo che gli autori chiamano proprio Polit Bureau riprendendo insomma la terminologia dei partiti marxisti rivoluzionari. Secondo le aspettative questo direttivo si sarebbe insediato attraverso un decisivo giudizio divino come custode di una nuova teocrazia una sorta di dittatura del contadinato traducendo l'espressione letteralmente l'espressione inglese che fosse al servizio degli interessi appunto delle classi rurali. Con l'avvento della rivoluzione le sorti del mondo agricolo sarebbero state capovolte. Ai settori non elitari della società ebraica sarebbe stata garantita una vita di abbondanza. I ricchi invece avrebbero dovuto rinunciare alle loro sostanze o subire l'inesorabile condanna divina. Sempre a luce di queste aspettative la missione in Galilea di Gesù e del suo gruppo sarebbe stata in parte indirizzata nel tentativo di indurre alcuni membri dell'elite a solidarizzare con la causa diventandone dei finanziatori. Operazione che secondo gli autori in determinate circostanze ebbe anche un discreto successo. La credibilità del movimento gesuano tra le popolazioni rurali era dovuta alla sua enfasi sui valori tradizionali dei contadini. Il carisma taumaturgico di cui avevano alcuni suoi membri Gesù in primis e ad una interpretazione rigorosa della legge accompagnata da uno stile di vita altrettanto rigoroso contro lo stile di vita corrotto dei membri della classe dominante. Mentre i nuclei familiari si disgregavano a causa dei progetti edilizi sponsorizzati dall'elite nei vicini centri urbani, il movimento gesuano costituì un proprio nucleo familiare alternativo imitando però rispettosamente i ruoli familiari tradizionali. Quindi da questo punto di vista il movimento gesuano sarebbe in realtà stato un movimento in qualche modo reazionario però con un tipo di impostazione che riprendeva appunto i valori della classe rurale e non gli antivalori dell'elite cittadine. Tuttavia proprio questo voler ricostituire un nucleo familiare proprio provocò anche delle reazioni negative da parte dei non appartenenti al gruppo stesso che lo additarono come effemminato e svirilizzato. Accuse che il gruppo di Gesù accolse rovesciò in modo dialettico trasformando nella sua retorica interna quella che agli occhi esterni appariva come effeminatezza in una estrema affermazione di virilità. Proprio alla luce di questo rovesciamento dialettico delle accuse di effeminatezza e di debolezza va letta sempre secondo gli autori del libro l'affermarsi all'interno del gruppo gesuano dell'ideale del giusto martire che affronta gloriosamente la morte per amore di Dio e della patria sul modello dei fratelli maccabèi. In tal senso quindi il martirio affrontato con coraggio virile sarebbe stato il mezzo per riscattare la mascomunità di Gesù e del movimento nel suo complesso. Durante il suo fatidico viaggio a Gesù fu coinvolto in quell'episodio che è passato nella tradizione cristiana come la cacciata dei mercanti dal tempio, episodio che spinse l'autorità a procedere al suo arresto e la sua condanna a morte. Gesù fu così messo a morte come uno squilibrato, questo è il termine che usano gli autori, pretendente reale. Dopo essere stato oltreggiato il Nazareno fu appeso nudo ad una croce romana in quella che secondo i suoi carnici fici doveva essere la forma suprema della sua umiliazione ma che nell'ottica dei membri del gruppo gesuano era invece la più potente manifestazione della sua gloria virile. Ecco perché la storia del movimento gesuano non si concluse con la sua morte, cioè con la morte di Gesù che appunto in questa prosteppettiva è più il prodotto del suo gruppo che non il gruppo prodotto della sua opera. Non molto tempo dopo che il cadavere martirizzato del Nazareno era stato deposto in una tomba da Giuseppe di Arimatea, interessante appunto che gli autori considerano storico questo episodio che invece altri autori non considerano tale, uno di quei ricchi che Giuseppe di Arimatea appunto che era uno di quei ricchi che il movimento gesuano era riuscito a coinvolgere nelle sue trame, quindi aveva conquistata la causa insomma delle istanze delle classi rurali. Alcune delle figure chiavi del gruppo credettero sinceramente che Dio l'avesse risuscitato. Questo non fu un esito del tutto inaspettato della morte di Gesù come martire, al contrario confermò che i tempi della fine erano davvero vicini. Alla fine però la rivoluzione prevista dal movimento non avvenne come tutti ben sappiamo. Fu chiaro quindi che Dio non sarebbe intervenuto in tempi rapidi come si era ritenuto in un primissimo momento. Di conseguenza il movimento gesuano ridefinì la radicalità delle sue aspettative proiettando le stesse ben oltre il contesto storico originario della Galilea del primo secolo. Gli autori concludono il loro lavoro cercando di evidenziare come gli impulsi da un lato rivoluzionari e dall'altro reazionari, l'abbiamo detto prima, del movimento di Gesù sarebbero riemersi in varie forme e luoghi nei secoli successivi in seno al cristianesimo. Nel suo complesso, per quanto se ne possano condivire o meno i presupposti teoretici, il lavoro di Crossin e Miles presenta una ricostruzione della vicenda storica di Gesù, o per meglio dire del suo movimento, interessante e ricca di spunti di riflessione, portando una sorprendente ventata di frizzante aria fresca in questo settore di studi. Ecco qua, credo di essere stato negli otto minuti. Attiva il microfono, Gabriele. Perfetto, perfetto, grazie. Grazie, Adriano. L'importante è che stiamo entro dieci minuti, ecco, minuto a più, minuto a più, dopo non importa. Grazie perché ci hai dato un pochino questa introduzione generale a quelli sintetica ma efficacissima di quelli che sono gli elementi risultamentali del gruppo, del libro, e Pierluigi Piovanelli si è offerto di allargare ancora più questa visione a quella che è la ricerca, come questo libro si inserisce nella ricerca più complessiva degli autori sul Gesù storico. Pierluigi, grazie del tuo intervento e ora la voce dal Canada. Grazie a te, spero che mi ascoltiate tutti. Ho mandato un testo per i partecipanti per facilitare l'ascolto e dunque è un po' il mio modus operandi, cerco di contestualizzare i colleghi e i ricercatori un po' nel contesto della ricerca globale e sono due ricercatori, soprattutto Crossley, che seguo da qualche anno. Cominciamo con Robert Miles, il più giovane, neotestamentario neozelandese, insegna attualmente a Perth, nell'Australia occidentale. La sua tesi dottorale ha prodotto una monografia che era intitolata The Homeless Jesus in the Gospel of Matthew, con il Cristo nel deserto dipinto da Kramskoi nel 1872 in copertina, che è proprio la copertina del mio libro, quindi mi ha seccato un pochino vedere che qualcuno mi aveva copiato, ma nove anni fa, quindi un paradosso temporale abbastanza divertente. Però questo libro è già interessante perché, se volete, sostiene in questo libro, Miles sostiene che la condizione di vagabondo senza fissa dimora di Gesù non fu, come si ritiene in generale, il risultato di una scelta autonoma, ma, lo cito, una reazione alla di lui dislocazione fisica e sociale all'interno della società palestinese del primo secolo. Ecco, diamo già un po' il tono del tipo di ricerche. E questo è stato ripreso nel libro che stiamo discutendo oggi. In altre parole, a spingere Gesù ad adottare questo particolare modo di vita non furono tanto i bisogni della predicazione, per esempio ottimizzare la diffusione del suo annuncio messianico, quanto il contesto sociale particolarmente sfavorevole della Galilea. La Galilea si sarebbe imborgesita sotto l'amministrazione di Erode, Antipa, come sappiamo. Una causa, insomma, sociale e non ideologica. E la cura draconiana che Miles vorrebbe imporre agli studi neotestamentari, a suo avviso affetti da una forma acuta di neoliberalismo strisciante, consisterebbe nella somministrazione di dosi massicce di materialismo storico di stampo marxista. James Crossley è stato allievo di Maurice Casey, l'abbiamo già detto, all'Università di Nottingham. La sua carriera accademica è cominciata all'Università di Sheffield, Università e abbastanza progressista, è tradizionalmente abbastanza progressista. Crossley è attualmente professore di Bibbia, Società e Politica a Oslo e alla St. Mary's University a Twickenham, Londra. Autore prolifico, dopo una tesi dottorale dedicata alla data del Vangelo di Marco nel 2004, in cui difendeva una datazione eccezionalmente alta, fra il 35 e il 45 dell'era comune, del Vangelo di Marco. Vabbè, quelli che sono d'accordo saranno d'accordo. Crossley si è specializzato nell'analisi del modo in cui viene trattata la figura di Gesù nella ricerca scientifica e nella cultura popolare contemporanea. A questo ha dedicato i due volumi complementari, i suoi due primi volumi importanti, Jesus in an age of terror nel 2008 e in seguito Jesus in an age of neoliberalism in 2012. Più recentemente si è a sua volta cimentato nella ricostruzione del Gesù storico con il volume Jesus and the chaos of history. Ce l'ho qui perché è stato difficile ritrovarlo nel caos della mia biblioteca, l'avevo perso di vista da un anno o due. Quindi tanto meglio. E questa trilogia, se vogliamo, costituisce un vero e proprio preludio al libro di cui stiamo parlando oggi. Diciamo è lo zoccolo duro su cui riposano le sue ricerche. Le considerazioni espresse in questa trilogia, Jesus in an age of terror, Jesus in an age of neoliberalism, Jesus and the chaos of history, sono comunque fondamentali per capire l'impegno sia scientifico sia politico di Crossley. Per quanto riguarda le sue posizioni scientifiche, lodevolissime, lodevolissime sono a mio avviso le critiche mosse ai criteri tradizionali per determinare l'autenticità delle gesta e le parole di Gesù o al valore storico della testimonianza del Vangelo di Giovanni. Non crede nell'importanza storica del Vangelo di Giovanni, sono perfettamente d'accordo. Altrettanto legittima e salutare è la sua decostruzione dell'approccio sociologico di Bruce Malina, sapete il neotestamentario sociologo del Nuovo Testamento americano recentemente scomparso, dei membri del context group nonché di quell'ossessione tipicamente occidentale per l'esistenza e l'onnipresenza di una cultura mediterranea di onore e pudore. Crossley la definisce addirittura una tendenza neocoloniale e forse ha ragione. Dove le cose cominciano a diventare problematiche è quando Crossley procede alla generalizzazione delle conclusioni tratte dal suo studio dei blog biblici nordamericani, angloamericani, all'insieme della ricerca contemporanea sul Gesù storico in Occidente dal 1967 ad oggi, dalla data fatidica del 1967 ad oggi. Per Crossley infatti è chiaro che, e ora cito, apriamo le virgolette, è stato nel periodo successivo al 1967 che una linea fortemente pro-israeliana è stata riscontrata in modio più ampio nella politica, nella cultura, nei filoni del pensiero cristiano occidentale e che queste condizioni sociali e ideologiche hanno spianato la strada all'accettazione e all'enfasi su Gesù l'ebreo, insieme ai tentativi di allontanare il cristianesimo dalla complicità dell'olocausto. Come, e qui fine della citazione, come se il nuovo interesse scientifico per Gesù l'ebreo fosse la logica ed inevitabile conseguenza di un cambiamento della politica imperialista americana nel Medio Oriente, all'indomani della guerra dei sei giorni. Non solo, ma Crossley continua, e qui lo cito di nuovo, constatando che, cito, è sorprendente che Gesù l'ebreo non sia stato sviluppato con vigore nei decenni immediatamente successivi all'olocausto. Fine della citazione. Una stupefazione che dimostra quanto il nostro autore sia ignaro della storia, della psicologia dei post-traumatici della Shoah. Mi sembra che sia completamente a digiuno. È facile mettere un'immagine tratta dalla Shoah sulla copertina del proprio primo libro, ma è più difficile un po' familiarizzarsi con le problematiche dietro tutto questo. Dopotutto, qualche anno fa, Crossley aveva dichiarato in un'intervista che, e cito, Noam Chomsky, Edward Said, Maurice Casey, che era il suo doctor father, Derek Gregory e Gilbert Ashkar, erano particolarmente influenti sul suo lavoro. Fine della citazione. Manifestamente, nella ricerca come nella vita, non è possibile interessarsi a tutto e bisogna fare delle scelte. Le mie scelte sono diverse, parzialmente diverse. Crossley ha messo dunque, progressivamente, da parte come Don Kishotteschi per lui, tutti i tentativi di un John P. Meyer, John P. Meyer è abbastanza maltrattato, di un Bruce Chilton, Bruce Chilton è ridicolizzato, di un Gerd Tyson. Gerd Tyson è totalmente incompreso. Ecco, tutta questa polemica contro il grande personaggio, il grande eroe, è perché non ha capito bene Gerd Tyson. David Flusser, mai citato, e qualche altro, questi studiosi che hanno cercato di restituire un'immagine storicamente plausibile di un ebreo chiamato Gesù. L'unico studioso che trovi grazia agli occhi di Crossley mi sembra essere Giza Vermesh. Dunque, Crossley si è orientato nel corso dell'ultimo decennio verso un'interpretazione storico-materialista del personaggio di Gesù e del suo movimento sulla scia dei lavori di Richard Orsley e di John Dominic Crossan, soprattutto John Dominic Crossan. Eloquente, penso sia il rinvio proprio all'inizio, a Power and Privilege di Gerard Lensky, come Crossan l'aveva fatto. Quindi anche tutto questo lato, novità di questa ricerca, nuova ricerca, mi sembra un po' da sfumarsi. Non possiamo comunque che rallegrarci di questo approccio. Io mi rallegro personalmente. Perché? Perché questo approccio costituisce un ottimo antidoto alle prospettive apologetiche, per non dire fondamentaliste, di certe opere che a parole si dichiarano storiche, ma che in realtà non sono altro che neoconservatrici o tradizionalisti, non solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ma ahimè anche in Francia e probabilmente, presumo, anche in Italia. Questo non deve comunque essere un motivo di facile triunfalismo e per due ottime ragioni. In primo luogo, come già sostenuto a suo tempo da Jean-Pierre Vernant e Pierre Vidal Nacquet, ricorso al concetto marxista di classe sociale nell'antichità greco-romana è perfettamente anacronistico. Questo fu detto negli anni Sessanta, in due o tre articoli piuttosto seminali e credo che nessuno possa dubitare della lealtà marxista di Jean-Pierre Vernant e Pierre Vidal Nacquet, sempre stati intellettuali di sinistra e molto impegnati, che però dicevano che le classi sociali marxiste sono una caricatura nell'antichità greco-romana. In secondo luogo, non è certo stata la guerra dei sei giorni a favorire l'emergenza di una terza fase della ricerca incentrata sul Gesù pienamente ebraico, Gesù l'ebreo, bensì la scoperta, la pubblicazione e lo studio dei famosi rotoli del mar morto, soprattutto ma non solo i frammenti aramaici del libro di Enno. Non solo quello, ma anche la scoperta, la pubblicazione e lo studio dei codici di Nag Hammadi, in particolare il Vangelo secondo Tommaso, che mettetelo in relazione con la famosa fonte Q. In conclusione direi che fino a quando non saranno scoperti altri fondi documentari della stessa importanza, altrettanto significativi, non ci sarà una vera e propria transizione verso una nuova fase della ricerca sul Gesù storico. Quindi la quarta fase è ben lungi dal cominciare, a mio avviso, e non comincia certo con il libro di Crossley e Miles. Vi ringrazio. Grazie, grazie Perluigi. Credo che questi due interventi di Adriano e Perluigi ci aiutino veramente a comprendere meglio questo testo e a inserirlo nella discussione contemporanea sul Gesù storico. Abbiamo ora una serie di interventi preparati, diciamo, che affronteranno diversi aspetti del libro di Crossley e io comincerei proprio seguendo l'ordine alfabetico le persone presenti da Giovanni Bazzana che ci parla da Harvard University negli Stati Uniti. Poi sarà il mio turno e poi quello di... Ah no, scusami, cominciamo con Federico, sorry, scusa. Cominciamo con Federico, poi Giovanni Bazzana. Scusa, Federico ti avevo preso con la F invece con la A. Quindi cominciamo da Federico, che è un po' stato anche responsabile di questo incontro, sottolineando proprio l'importanza di questo libro, e poi avremo a seguito tutti gli altri interventi. Federico. Sì, 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 buonasera a tutti. Sì, sì, sono molto fiero di questa... no, fiero, felice, felice di questa iniziativa di dedicare una tavola rotonda a questo libro per tante ragioni, anzitutto perché sono in particolar modo un estimatore da lunghissimo tempo di James Crossley, in cui lavori leggo da più di dieci anni e sono tanti anni che lo considero uno dei migliori studiosi del Gesù storico in circolazione, insieme al suo compianto mentore Maurice Casey. E infatti coltivo la speranza che in questo nostro webinar possa convincere anche qualche editore italiano a tradurre questo o qualcuno degli altri lavori di Crossley, anche quelli di Casey non sono stati tradotti, questo è un problema che purtroppo c'è spesso. E poi sono... ritengo che questo libro in particolare sia comunque uno dei lavori più interessanti usciti negli ultimi dieci anni, diciamo. La ricerca sul Gesù storico ha avuto una fase vorticosa dagli anni 80, 90, fino ai primi 2000, poi secondo me questi ultimi dieci, quindici anni ha un po' rallentato, magari è anche una cosa buona. In questo mio intervento vorrei soffermarmi sul capitolo che Crossley e Miles dedicano a quello che loro chiamano, con un'espressione carina, ideological training with John the Baptist, l'addestramento, l'apprendistato ideologico di Gesù al seguito di Giovanni il Battista. Espressione che io trovo appropriata, anche se, come cercherò di argomentare, gli autori a mio avviso non hanno sviscerato fino in fondo le implicazioni di questo addestramento ideologico. Crossley e Miles sottolineano giustamente che il movimento del Battista era estremamente popolare all'epoca, molto più di quello di Gesù. E mettono in relazione il sorgere del movimento millenaristico di Giovanni con gli sconvolgimenti socio-economici causati dai grandiosi progetti edilizi che Erode il Grande aveva realizzato in Giudea, così come il movimento di Gesù per gli autori emergerà appunto in risposta all'urbanizzazione della Galilea portata avanti dal figlio di Erode il Grande, Erode Antipa. In questo contesto il Battista, con i suoi raduni di massa nel deserto, viene visto come una figura di organizzatore religioso critico verso l'establishment politico. Ovviamente l'opposizione alla casa erodiana è ampiamente documentata nelle fonti, vedi il suo assassino politico di cui riferisce Flavio Giuseppe, la critica alle nozze con Erode, di Erode e Marco, e poi, come si soffermano gli autori, il modo in cui Gesù nella tradizione Q contrappone sarcasticamente il ruvido e virile aspetto di Giovanni alle morbide vesti dei cortigiani erodiani. Invece l'identità sacerdotale di Giovanni non è oggetto di particolare attenzione, un aspetto che per me invece è fondamentale del Battista. Di passaggio, l'identità sacerdotale viene riconosciuta come coerente con le immersioni purificatorie che il Battista praticava e gli autori aggiungono questo in special modo se Giovanni fosse stato membro della comunità di Qumran. E qui io non sono per niente d'accordo, nel senso che l'interesse per la purità rituale non era assolutamente una prerogativa esclusiva dei sacerdoti esseni e inoltre questa ipotesi dura a morire del Battista Qumranico, secondo me, crea più problemi di quanti ne risolva. Così come trovo poco convincente il suggerimento degli autori che Giovanni, andando nel deserto e circondandosi di gente di basso strato sociale, sarebbe stato una sorta di traditore di classe rispetto al suo originario ambiente sacerdotale. Non mi convince tanto perché sappiamo che accanto all'aristocrazia sacerdotale di Gerusalemme c'era anche un sacerdozio rurale di condizioni più modeste e che Raio Giuseppe riferisce peraltro che erano anche soggetti esposti ai soprusi dei loro colleghi aristocratici al punto di rischiare perfino di morire di fame. Del tutto convincente e meritevole di plauso, a mio avviso, è invece l'opposizione che Crossley e Miles fanno alla tesi, alla tesi che loro definiscono minoritaria ma invece è maggioritaria, la tesi secondo cui il battesimo di pentimento per il perdono dei peccati praticato da Giovanni sarebbe stato un atto di sfida deliberata nei confronti del Tempio. Gli autori giustamente osservano che nel mondo giudaico vi erano anche altre voci che collegavano la possibilità dell'espiazione dei peccati ad azioni che potevano avere luogo anche al di fuori del Tempio, ad esempio le elemosine di cui parla il Siracide, senza che ciò implicasse un rifiuto dei sacrifici. E soprattutto se Giovanni si fosse davvero posto apertamente al sistema templare, una tale critica avrebbe dovuto, avrebbe creato sicuramente polemica e quindi avrebbe dovuto lasciare il segno, lasciare tracce nella documentazione e invece non ne abbiamo. Anzi, aggiungo io, abbiamo ben due fonti o tradizioni indipendenti che ricordano Giovanni in un'ottica di pietà decisamente favorevole al Tempio. Penso alle tradizioni battiste soggiacenti al racconto dell'infanzia Lucano e al ritratto stesso che il sacerdote Flavio Giuseppe fa di Giovanni come un modello di pietà. Vengo adesso invece al punto più critico. Crossley e Miles, a mio avviso, non riescono a mostrare fino in fondo in cosa consisteva quella formazione ideologica che Gesù avrebbe ottenuto al seguito del Battista. Sicuramente gli autori valorizzano la piena continuità tra i due a livello di opposizione politica alla casa erodiana e soprattutto a livello di idee apocalittiche e millenariste circa un imminente sovvertimento dell'ordine costituito. Stranamente però gli autori non colgono la profonda coerenza tra Giovanni e Gesù a livello di due aspetti che gli autori stessi sottolinano essere centrali per Gesù. Primo, la necessità di condividere i propri beni con i più poveri. Secondo, il tentativo strategico di convertire gli esattori delle tasse che opprimevano la popolazione per conto dell'elite. Entrambi queste cose sono chiaramente attestate nelle istruzioni etiche che Giovanni Battista dà in Luca 3, 10, 14. Donare ai poveri tutto ciò che si ha in più dello stretto necessario, la seconda tunica, un po' di cibo in più, pretendere che i soldati non estorcessero più la gente, che gli esattori delle tasse appunto smettessero di esigere più del dovuto, rendendo in questo modo di fatto impossibile svolgere il loro mestiere o comunque vietando il solo modo che avevano per arricchirsi, per fare, diciamo, carriera. Sebbene Crossley e Miles riconoscono che questo passo lucano non sia del tutto lontano dai sentimenti che avrebbero influenzato Gesù, ed è possibile che Giovanni Battista abbia detto cose del genere, alla fine però lo accantonano per la semplice ragione che si tratta di materiale attestato solamente in Luca, ma è un giudizio troppo affrettato che soprattutto dimentica che il successo del Battista nel convertire, nel riportare alla giustizia gli esattori delle tasse, viene attestato anche in un altro ramo della tradizione gesuana. Matteo 21, 32, dove Gesù afferma che i pubblicani avevano dato ascolto alla via della giustizia di Giovanni e per questo entravano nel regno di Dio. Quindi, alla luce di questa duplice testimonianza indipendente, perlomeno per chi ragiona come gli autori, nell'ottica dell'ipotesi delle due fonti, ne consegue che quella missione nei confronti dei ricchi e degli oppressori che Crossley e Miles considerano giustamente così centrale per l'attività di Gesù, era precisamente ciò che Gesù aveva appreso durante il suo apprendistato ideologico al seguito del Battista. E se a questo aggiungiamo la probabilità che Gesù abbia portato avanti anche l'attività battezzatrice di Giovanni, non solo in Giudea, come riporta il Vangelo, il quarto Vangelo, ma anche in Galilea, come abbiamo sostenuto Joan Taylor e io, allora ne deriva una conclusione direi di capitale importanza, cioè che il movimento di Gesù era un'estensione di quello del Battista, non un movimento distinto da esso, come invece presuppongono Crossley e Miles quando all'inizio del capitolo quarto scrivono non sappiamo quando Gesù abbia lasciato Giovanni Battista e sia entrato a far parte di un altro movimento. A mio parere questo modo di vedere è forse un ultimo rimasuglio proprio di quella tradizione accademica che enfatizza l'originalità, il genio individuale di Gesù, Gesù come grande eroe, che Crossley e Miles criticano in modo serrato e cercano di ribaltare inquadrando appunto Gesù nel contesto di un movimento più ampio. Un'operazione metodologica che io credo sia importante ma che penso che debba essere portata fino in fondo arrivando a riconoscere che Gesù era il continuatore di Giovanni che i loro due movimenti erano sostanzialmente un movimento unico che solamente decenni dopo iniziò a differenziarsi nettamente anche con punte polemiche tra gli eredi di Giovanni Gesùani e gli eredi di Giovanni non Gesùani. Grazie. Grazie Federico. Continua questa alternanza tra Italia e le Americhe, ora con Giovanni Bazzana da Harvard University. Grazie Gabriele, mi sentite bene da lontano? Grazie a tutti, buonasera, buon pomeriggio. Grazie Gabriele, quindi Adriano e Federico per questo invito che mi ha permesso di leggere il libro di Crossley e Miles altrimenti probabilmente non avrei avuto tempo. È un libro molto interessante come gli interventi precedenti hanno evidenziato. È ricco di spunti metodologici che potrebbero essere produttivi. Purtroppo in un certo senso fa un lavoro incompleto, credo, oppure si potrebbe mettere in un modo più positivo presente degli spunti che altri potrebbero sviluppare. Quindi mi limiterei a discutere tre punti in questo senso nei sette, otto, nove minuti che avrò a disposizione. L'inizio, un po' come è stato già detto, mi sembra interessante che i due autori si pongano la questione di studiare Gesù storico con questo metodo di materialismo storico, che non è la prima volta in assoluto nella storia degli studi sul Gesù storico, ovviamente perché niente, è nuovo in questa storia ormai plurisecolare, però è in effetti abbastanza inusuale nel contesto degli studi correnti. Anche Federico ha detto molto giustamente che magari viviamo un periodo di perdita, di enfasi su questo particolare aspetto della ricerca neotestamentaria, ma rimane il fatto che nelle ultime tre decadi o così è stato prodotto una massa enorme di libri. Però poche volte con questo particolare atteggiamento, con questo taglio particolare, metodologicamente, come è stato anche già detto da Adriano, Anche io trovo estremamente utile per tutti che il libro enfatizzi particolarmente l'importanza di abbandonare certi paradigmi storiografici che sono liberali o neoliberisti, specialmente nel contesto degli Stati Uniti estremamente influenzati dall'individualismo, dall'ideologia individualistica che caratterizza la politica, la società qua, ma che è anche ovviamente estesa oltre gli Stati Uniti. In questo senso nel libro si dice spesso, sia Crossley che Miles ripetono spesso, che c'è un'esigenza di muovere il racconto della vita di Gesù, il racconto di Gesù, Abbandonare i paradigmi che si focalizzano su Big Man, è stato detto, il grande individuo creatore della storia, carismatico, eccetera. Questo ovviamente va molto indietro nella ricerca fino all'Ottocento, ha radici che si connettono con fenomeni culturali, intellettuali europei dell'Ottocento, ma anche prima probabilmente, quindi c'è un'enfasi di converso, Crossley e Miles enfatizzano il ruolo del movimento, questo l'ha detto anche Federico Giusto Adesso, in modo limitato però, come lui indicava nel caso di Giovanni il Battista, rimane, il libro stesso rimane sempre un po' invischiato, e forse io aggiungerei questo punto, è anche perché Crossley e Miles insistono nel scrivere una biografia di Gesù e il genere è un genere ottocentesco legato alla borghesia e all'individualismo del tempo, è un genere che ha particolarmente, ha grande successo nel mondo anglosassone, anglofono, forse più che altrove, ma perché riflette questa posizione ideologica? E in questo senso il libro, questo libro ha gli stessi problemi dell'altro libro di Crossley, precedente menzionato da Pierluigi, Jesus and the Chaos of History, che è anche quello un libro sul Gesù storico, ma si dibatte in questa impossibile letto di Procuste di parlare della vita del Gesù storico, ma allo stesso tempo anche inserirla all'interno di processi storici, materiali, che vanno ben al di là del Gesù storico come individuo. E quindi in questo senso, per esempio, di questo libro è utile leggere l'ultimo capitolo, capitolo 11, e magari ci tornerò, ci torno alla fine. Secondo punto che volevo mettere a enfatizzare, sottolineare, in questa analisi materialista, Crossley e Miles dicono noi vogliamo assolutamente focalizzare la nostra attenzione sui mezzi di produzione, la Galilea, la situazione socio-economica della Galilea, eccetera, con l'uso di materiali archeologici e di cultura materiale, che però non è in effetti molto presente nel libro stesso. Ci sono delle questioni molto interessanti, in questo senso, per esempio, c'è nel capitolo 4 una discussione molto interessante del ruolo dei pescatori come gruppo e come professione in relazione ai contadini, ai peasants, e soprattutto c'è una bella critica di molte letture che si fanno, per esempio, di questi pescatori, primi discepoli di Gesù, soprattutto Giovanni e Giacomo, i due fratelli, che lasciano il padre con i lavoratori nella barca, il fatto che sono letti come piccoli imprenditori in moltissima della letteratura sul Gesù storico. una buona critica di questo, però poi non si potrebbe fare molto di più, e i due autori in questo senso mancano, secondo me, un po'. Faccio due esempi rapidissimi. Uno è, per esempio, Crossley e Miles hanno questa convinzione che i villaggi come Nazareth della Galilea siano chiusi su se stessi dal punto di vista culturale, e abbiano un forte tradizionalismo culturale e sociale. Per esempio, se si guarda i dati della ricerca archeologica, questo non è vero. La Galilea è forse uno dei posti in tutto il Mediterraneo che è stato più studiato e scavato dal punto di vista archeologico negli ultimi 40-50 anni. Ogni metro, ogni cittaduzza è stata scavata in modo molto sistematico, per ovvie ragioni ideologiche, molto più di ogni altra parte, forse con l'eccezione di Atene e di certi posti in Italia. E in questo senso si sa molto, sappiamo molto, sappiamo molto, per esempio, del fatto che ci fosse una grande circolazione di certe merci, per esempio, ci sono molti studi sulla circolazione di vasellame in pietra, che veniva prodotto in certi punti dalla Galilea e poi veniva praticamente portato in tutti i villaggi. Quindi c'era molta più comunicazione di quanto, è un dato di fatto, ci fosse molta più comunicazione di quanto si assume se si dice che questi villaggi erano tutti separati e chiusi in se stessi, senza considerare che è anche un posto piccolissimo. L'altro punto magari da citare è che c'è una totale assenza di tematizzazione nel libro della questione del lavoro servile o della schiavitù, che doveva per forza di cose essere fondamentale per i mezzi di produzione, per la produzione, questa produzione agraria, perché lo sappiamo per tutta l'antichità. E a meno che si dica, come certi dicono, che gli ebrei soli in tutto il resto del Mediterraneo del mondo antico non avessero schiavi, bisogna, altrimenti, a meno che si faccia questa affermazione che pare irrealistica, bisogna porsi questa domanda per i Vangeli, per le fonti su Gesù, in cui notoriamente Gesù non parla, non incontra, non ha mai relazioni con persone in schiavitù, ma però ne parla spessissimo nelle parabole, dove spesso schiavi, eccetera, sono i protagonisti, i caratteri principali. Quindi in un modo o nell'altro bisogna che questo entri nella discussione, specialmente se la discussione è su mezzi di produzione, eccetera. Un punto finale, molto rapidamente, trovo che, per esempio, la discussione del millenarismo nel libro sia molto sofisticata, anche se Gabriele dirà qualcosa di più critico alla fine, ma la trovo interessante, per esempio, beh, ci sono degli aspetti che sono già stati menzionati, in cui Crossley e Miles adottano un linguaggio che loro usino strategicamente per sovvertire una certa romanticizzazione o addomesticamento delle tradizioni apocalittiche o millenariste, come dicono loro, per esempio la linguaggio della dittatura di Dio, per tradurre il regno di Dio, o la dittatura dei contadini, come diceva Adriano. Soprattutto è interessante, dal punto di vista dell'analisi, il fatto che loro reagiscono con forza all'idea che queste tradizioni apocalittiche o millenariste siano solo di una certa elite di scribi che hanno perso il loro lavoro, e credo che Crossley e Miles offrono una buona risposta per dire che queste tradizioni sono anche popolari, ovviamente con problemi di relazione qui. E magari in questo senso è interessante, sarebbe interessante guardare, come dicevo all'inizio, all'ultimo capitolo del libro, capitolo 11, in cui i due autori prospettano il lungo periodo, le risultanze del lungo periodo della loro analisi, però in maniera molto abbozzata, certamente un problema grosso qui storiograficamente è capire come queste idee apocalittiche o millenariste siano divenute, il cristianesimo sia divenuto la fondazione ideologica per idee imperiali, il capitalismo o il patriarcato, che è un altro elemento che viene discusso abbastanza nel libro, credo in maniera interessante. Magari in questo senso, e allo stesso tempo si ha anche la fonte di risposte liberanti, liberatorie. Magari una cosa interessante da dire, e con questa chiudo, su questo punto è che è sorprendente, ma neanche tanto, conoscendo il lavoro precedente di Crossley e Miles, che il libro rimane totalmente all'interno del canone neotestamentario, non ci sono praticamente riferimenti a testi apocrifi, cosiddetti apocrifi del Nuovo Testamento, early Christian apocryphal test. E in questo senso uno potrebbe dire a Crossley e Miles fate lo stesso lavoro di analisi marxista su come mai il canone si è formato in questo modo, perché alla fine anche quello dipende da certi, un esempio che è stato studiato molto ovviamente, e che è chiaro a tutti, è quello della questione di l'esclusione di testi che potessero costituire problema per certe idee, un'ideologia patriarcale, cosicché i testi che magari sono più sovversivi da questo punto di vista dalla gerarchia maschile all'interno della Chiesa sono generalmente esclusi ed altri sono inclusi che la pensano diversamente. Grazie ancora e ascolterò gli altri interventi. Grazie, grazie Giovanni, grazie. Veramente continuiamo ora con un'altra voce dagli Stati Uniti, la mia. Anch'io vorrei partire dalla tesi centrale del libro, quella tesi che mi vede perfettamente, completamente d'accordo. Nella ricerca del Gesù sul Gesù storico occorre superare la retorica del grande uomo che creò il movimento per concentrarsi invece sul grande movimento che fece di Gesù un leader. Questo mi pare lo abbiamo già richiamato molti, io lo trovo molto interessante. Gesù ci viene detto fu espressione di uno dei movimenti millenaristi ampiamente diffusi nel giudaismo nel secondo tempo. A testimonianza dell'esistenza e diffusione di tali movimenti, gli autori citano essenzialmente l'opera di Giuseppe Flavio con riferimenti più in diretta anche a alcuni dati archeologici o tratti dai manoscritti di Qumran. In questo contesto sorprende che la testimonianza dei testi apocalittici, in particolare dei testi della rittruttura enochica, non sia presa nella dovuta considerazione, né una spia anche la scelta di parlare di movimenti millenaristi, anche se questo termine non è proprio molto azzeccato, piuttosto che di movimenti apocalittici. Non è fino al capitolo 5 che gli autori finalmente collegano millenarismo e apocalittica per dire che in fondo i due termini esprimono idee simili. Però poi si parla dell'apocalittica essenzialmente e solo come di un fenomeno letterario, citando il primo enoch insieme a Daniele e al quarto libro di Estra, i quali tuttavia sono il prodotto di gruppi ideologicamente assai diversi dal movimento enochico. La cosa per me più paradossale è che la definizione che viene data del millenarismo come un'aspettativa di trasformazione radicale dell'ordine sociale, economico e politico, l'avvento in unità dell'oro attraverso l'intervento soprannaturale da parte di agenti umani nominati da Dio, pare a me il ritratto stesso del movimento enochico, quale emerge in particolare da quei testi più vicini crologicamente al tempo del Battista e di Gesù e di Teuda, ovvero l'epistola di Enoch, cui il libro riserva solo una veloce citazione, e le parabole di Enoch che sorprendentemente non sono mai citate, nemmeno in termini generali. E qui, come diceva Federico, se il movimento di Gesù è un'estensione del movimento del Battista, a me pare che questi siano un'estensione del movimento enochico, a loro volta. Mi domando allora, e domando anche a voi tutti, perché la tradizione di Enoch sia completamente ignorata, anche se ciò non solo avrebbe aiutato a una migliore comprensione del movimento millenarista gesuano, ma avrebbe offerto anche la possibilità di confrontarlo con un altro movimento millenarista la cui esistenza è ugualmente ben documentata dai testi dell'epoca. Credo che in primo luogo ci sia un pregiudizio verso l'apocalittica considerata come un fenomeno di consolazione ultraterrena e quindi di alienazione spiritualistica, l'apocalittica in sostanza come oppio del popolo. Il libro, a dire il vero, rigetta l'idea di alcuni autori come Randall Reed che l'apocalittica sia puramente espressione di élite scribali, lo ricordava Giovanni, e che le idee apocalittiche non fossero anche il patrimonio delle classi sfruttate. Questa visione dell'apocalittica come una specie di fuga dalla storia e dall'impegno e trasformazione della storia dovrebbe ormai appartenere al passato, perché è esattamente l'opposto di quella che emerge dalla ricerca odierna sulla letteratura enochica che tende proprio a sottolineare la sua natura di movimento millenarista. Spesso addirittura si tende a contrapporre in maniera netta il Gesù storico, leader di un movimento politico di riforma sociale, al Cristo di Paolo e dei Sinottici, che proprio l'apocalittica e l'enochismo in particolare avrebbero contribuito, dopo la sua morte, a trasformare dal leader sociale al leader spirituale, dal leader politico-religioso al figlio dell'uomo celeste. Il libro, in questo senso, va detto, si muove controcorrente, sottolineando correttamente la continuità tra il messaggio di Gesù e il modo con cui egli fu rienterpretato dopo la sua morte alla luce degli stessi principi millenaristi. Quindi la lettura millenarista-apocalittica postosquale della figura di Gesù non rappresenta poi quell'alterità sostanziale che tante volte si vorrebbe suggerire. La vera svolta, afferma il libro, si ebbe piuttosto alla fine del I secolo con Giovanni e con Tommaso, per il quale il regno e il Dio cessano di essere un evento futuro e politico, ma diventano realtà mistica, la vita eterna. Infatti Giovanni e Tommaso sono testi decisamente antienochici che abbandonano la visione enochica di Gesù come il figlio e l'uomo spostando l'accento su tutt'altre definizioni della natura e della missione al Cristo. La critica all'apocalittica poteva aver senso quando l'apocalittica era interpretata in un modo antagonistico alla visione del giù politico. Ma che senso ha oggi? Non si applica al movimento cesuano che certo ci è ripetuto, non fu un movimento di alienazione, ma ugualmente non si applica al movimento enochico che fu un movimento non meno politico di quello cesuano. Nella mancata enfasi sul movimento enochico avverto anche un pregiudizio contro la storia delle idee. Nonostante si ripeta che la regione e politica sono inseparabili in antiguità, l'intento rimane quello di mostrare che Gesù non fu semplicemente un leader religioso, ma prima di tutto un leader politico, di nuovo come se le due cose si escludessero a vicenda. Il mio punto è che la storia delle idee e l'analisi sociologica dovrebbero andare di pari passo. Se davvero si vuole offrire una ricostruzione attendibile dei movimenti mineralisti dell'epoca e del momento cesuano in particolare. Del tutto ignorati nel libro sono gli aspetti protologici. La necessità di un cambiamento, ci viene detto, nasce da una concreta situazione di ingiustizia e di disagio sociale, ma niente ci viene detto del perché si pensasse che questa situazione di ingiustizia si fosse determinata. Perché questo mondo, pure creato da Dio, non è il regno di Dio, ma il regno di Dio deve venire o meglio deve essere restaurato? Perché Dio ha perso il suo potere? Perché c'è bisogno del Messia, di un Messia che abbia tratti superumani? Perché Gesù combatte contro Satana gli spiriti impuri? Perché il pentimento è presentato come l'unica possibile via di salvezza per i peccatori? Sono domande imprescindibili. Eppure niente di questo ci è spiegato, se non attraverso la frase, spesso ripetuta, che così è perché così si pensava, perché queste credenze erano diffuse a quel tempo, almeno in certi gruppi. Come se tutto questo non rappresentasse che una sola struttura teologica del tutto superfluo, effimera, figlia solo del suo tempo. I testi enochici ci offrono una spiegazione eziologica ben precisa e organica alla luce di una riflessione sull'origine del male, una teodicea sofisticata circa il ruolo di Dio, un perché coerente perché la conversione e il perdono di Dio diventano il rimedio principale al dominio del male. Senza una comprensione degli aspetti ideologici, la comprensione dei caratteri dei movimenti miliaristi del tempo risulta parziale e incompleta. Ma c'è forse in conclusione anche una terza ragione per questa diffidenza nei confronti dell'apocalittica. Come nella maggior parte dei testi sulla ricerca del giusto storico, c'è il vizio di procedere sempre a ritroso dalle fonti cristiane al background giudaico, invece che partire da quelle che erano le tendenze in atto nel giudaismo palestinese per arrivare al Gesù storico. Ed ecco che senza il movimento enoico i movimenti di Giovanni Battista e di Gesù e di Teuda non hanno precursori, non hanno radici, non hanno motivazioni, non hanno una teologia che li alimenta e li sostiene, se non un indefinito substrato giudaico che ne spiega i caratteri culturali ma non le motivazioni politiche e religiose. Si finisce così per limitarsi a descrivere le implicazioni sul piano politico e sociale di questi movimenti senza soffermarsi sulle motivazioni ideologiche che li resero possibili e sulle teologie che essi portarono avanti e soprattutto non se ne vede la continuità con il giudaismo. Il giudaismo finisce così con l'apparire anch'esso come una pura sovrastruttura teologica che poco o niente ha a che fare con la natura del movimento milionarista di Gesù e i cui testi vengono citati solo come testimoni di un sostrato culturale alla fin fine anch'esso superfluo e effimero. Condivido molto le riflessioni che ha fatto per lui. Io ho cercato di essere un po' più buono. In conclusione ben venga la critica sacrosanta alla visione romantica della biografia del grande eroe ma non vorrei che ad essa si sostituisse l'idea altrettanto romantica del grande movimento che non ha radici né precursori né continuità teologica ideologica con altri movimenti né tantomeno con il giudaismo mentre invece il grande movimento che produsse il grande reader si spiega proprio a partire dalle sviluppe interni del pensiero giudaico del secondo tempio grazie bene andiamo a Dario a questo punto a Dario Garriba di nuovo dall'Italia di nuovo dall'Italia allora chiaramente ripeterò delle cose che in parte sono state già dette tra l'altro molto bene da chi mi ha preceduto però aggiungerò spero qualche ulteriore elemento a questa discussione che mi sembra si prometta bene anche nel suo proseguo allora come già altri hanno detto ciò che spinge ad avvicinarsi alla lettura di questo libro è che esso non si propone di essere un'ennesima vita di Gesù che si inserisce in una tradizione più o meno ormai consolidata né vuole districare l'intricato garbuio della prima storia dei seguaci di Gesù esso più umilmente in fondo ritiene che un approccio storico materialista alla figura di Gesù possa collocare Gesù in relazione agli antagonismi di classe del suo tempo e del suo spazio con un occhio ai cambiamenti sociali e culturali che essi generavano così ho citato un passo del libro gli autori dunque mettono in atto un tentativo quanto mai stimolante staccare gli occhi dalla ricerca sull'individuo Gesù ricerca che loro condannano come appunto vite neoliberali che ancora oggi si producono di Gesù ed aprire ad una next quest che comprende i modi di produzione materiale e culturale di cui Gesù e il suo movimento sono espressione e filiazione e dentro cui si muovono agiscono e comunicano è un'impostazione una premessa che io trovo innubbiamente interessante e tutto sommato anche onesto perché fissa sin dalle prime pagine i limiti di tale operazione e mi trovo pienamente d'accordo con gli autori quando affermano che il mondo di Gesù è un mondo in cambiamento ma qui cominciano a mio giudizio alle note dolenti dalle premesse che essi fanno e qui mi inserisco mi riaggancio alle parole di Giovanni Bazzana mi sarei aspettato infatti un'attenzione molto maggiore alla ricostruzione alla descrizione politica economico sociale e culturale del mondo di Gesù non ricorrendo a formule generiche come quando ad esempio alle pagine 58-59 si postula una contrapposizione di classe tra abitanti della città e abitanti della campagna senza poi analizzare né qui né nelle pagine successive come concretamente questo conflitto si realizzasse e se ci muoviamo all'interno della loro prospettiva cioè della proposta che gli autori fanno sarebbe stato per esempio utile chiedersi quali effetti ebbe la costruzione di Tiberiade con il suo porto e con le sue strutture per la pesca sull'economia di Magdala città dotata sin dall'età smonaica di un porto e di strutture per la salatura del pesce e di cui evidentemente Tiberiade diventava diretta concorrente o ancora appare del tutto generico parlare di società agraria povera senza minimamente distinguere i diversi gradi di provertà e di precarietà e senza interrogarsi criticamente sulla geografia del territorio che faceva della Galilea ricca di acqua e di un lago pescoso una regione meno afflitta in termini agricoli quindi economici della cronica ricerca d'acqua tipica del territorio giudaico c'è un accenno vari accenni sono fatti in questo libro non sviluppato né corroborato da fonti secondo cui ai tempi di Antipa Sepphoris avrebbe dominato le risorse idriche dell'area pagina 59 ma poi non viene sviluppato un tema interessantissimo se la città si prende tutta l'acqua chiaramente bisogna capire innanzitutto dove sta scritto e poi spiegare quali sono le conseguenze quindi io non escludo in assoluto che gli autori possono aver visto tutto giusto ma il punto è dimostrarlo attraverso un uso solido e rigoroso delle fonti e su questo punto non paiono ineccepibili mi muovo però partendo da qui ad aggiungere qualcosa che mi sembra un po' più grave come mancanza ed è un secondo punto quindi su cui mi soffermo gli autori ricollocano qualcuno già l'ha detto prima di me Gesù in una linea tradizionalista cioè Gesù viene considerato dagli autori un religious organizer un organizzatore religioso come già ha detto Federico un'espressione che indicherebbe il riconoscimento in Gesù da parte della popolazione gallinaica e giudaica di una capacità di mediazione con il mondo divino e che spiegherebbe il carattere rivoluzionario ma anche non violento o almeno non ancora violento del movimento di Gesù ora non è mio interesse qui discutere ed entrare nello specifico di questa definizione mi interessa piuttosto evidenziare un altro aspetto vale a dire il modo in cui gli autori arrivano a dare una tale definizione di Gesù infatti secondo loro questa questo inquadramento di Gesù deriverebbe dalle attese di un capovolgimento delle ingiuste e insopportabili condizioni economiche e sociali in cui le classi minabienti vivevano già è stato detto questo aspetto ora indubbiamente l'azione di Gesù si realizza in una realtà di cambiamento in realtà in cui esistono anche delle difficoltà e su questo si concorda con gli autori ma si tratta come essi sostengono di un cambiamento delle condizioni materiali di queste popolazioni di un cambiamento che modifica i modi di produzione di distribuzione e di fruizione dei beni cioè e questo a mio giudizio è un passaggio centrale cruciale cioè possiamo dire che nel passaggio da Erode il grande ad Erode Antipa siano profondamente cambiate le condizioni economiche e materiali dei contadini e dei pescatori della Galilea o che la costruzione di Tiberiade abbia provocato uno sconquasso sociale con espropri e senza fissa dimora che ha innescato una drammatica e stabilità sociale a mio giudizio no perché nelle fonti non riusciamo a trovare un dato che ci permetterebbe di dire qualcosa il cambiamento c'è ma a mio giudizio investe una sfera diversa è un cambiamento politico e ideologico che è cominciato nel 63 a.C. conosce all'inizio della nuova era un'ulteriore accelerazione l'avvento dei romani e l'avvio di un processo di romanizzazione che costituisce per molti giudei prima di tutto una minaccia identitaria gli autori menzionano molto di sfuggita giù del Galileo attribuendo superficialmente un'opposizione al pagamento delle tasse senza cogliere ciò che Giuseppe esplicita cioè che gli rimproverava ai giudei di accettare la signoria dei romani e più in generale il libro presta pochissima attenzione a questo aspetto della storia giudaica del primo secolo cioè il fatto che un controllo diretto della giudea da parte romana avesse una ricaduta diretta sulla salvaguardia e sul mantenimento di un'identità giudaica è questo il tema sottostante all'episodio del date a Cesare quel che è di Cesare che Marco colloca e non è un caso a Gerusalemme e non in Galilea ed è questo il timore che poco dopo la morte di Gesù getterà nell'angoscia gran parte dei giudei allorquando Caligola ordinerà di collocare una sua statua nel tempio di Gerusalemme in fondo anche l'inizio della guerra è legato in qualche modo al culto per la salute dell'imperatore ora tacere del tutto questi aspetti in riferimento a un movimento come quello di Gesù che parla di regno e che parla di una qualche forma di restaurazione di Israele con l'uso dei dodici che richiama le tribù eccetera insomma non parlare proprio di questo per un movimento che non sembra insensibile alla minaccia identitaria finisce a mio giudizio per trascurare una delle componenti chiavi del movimento gesuano e rischia di inficiare l'intera sua ricostruzione storica e vengo qui al terzo punto se ancora qualche minuto la questione di Gesù come martire allora innanzitutto mi sembra corretto chiedersi se la morte di Gesù una morte che stando alle testimonianze evangeliche avviene senza che Gesù vi si opponga possa essere messa in relazione con una tradizione presente nel mondo giudaico del suo tempo presente sia in termini di patrimonio culturale quella appunto di una tradizione mettiamo per ora le virgolette martiriale che porta infatti allo sviluppo di una storia di martirio il passaggio da 2 a 4 maccabèi significa che quella storia è stata ripresa tra l'altro 4 maccabèi si colloca come produzione del primo secolo quindi significa quel tema in qualche modo cammina nella cultura giudaica e sia anche come in termini di avvenimenti storici perché guerre e antichità riportano la famosa storia dei due dottori Giuda e Mattia che vengono uccisi in relazione all'assalto all'aquila d'oro nel tempio di Gerusalemme ora mi sembra dunque del tutto legittimo il tema che Crossey e Miles affrontano quello che però delude ancora una volta il modo in cui lo fanno questo è un tema complesso questo della morte martiriale è pieno di sfumature ampiamente e egregiamente studiato da studiosi come Vanenten o la Marie François Basley che un libro è stato pubblicato tradotto anche in italiano ora senza quindi arrivare a discutere nel dettaglio senza discutere la questione terminologica se sia corretto o meno usare la parola martire io non sono d'accordissimo però questo lo possiamo concedere agli autori tenendo conto della loro impostazione credo che ritengo che sarebbe stato assolutamente necessario fare una distinzione tra quello che la tradizione e le fonti ci racconta cioè tra chi si lascia uccidere per non trasgredire la legge come avviene con il saggio Eleazzaro in due Maccabèi e come accade anche a Mattia e Giuda i due che si fanno uccidere da Erode per rispettare la legge e per dare un esempio a chi verrà dopo di loro e chi invece muore per riscattare gli altri attribuendo dunque alla propria morte un valore sacrificale questo per esempio è il caso dei sette fratelli Maccabèi sono due cose diverse che vanno secondo me evidenziate infatti nel primo caso la morte assume il carattere del nobile esempio esempio nobile per le generazioni future perché sappiano affrontare prontamente e generosamente le sante e venerande leggi e invece altra cosa la morte è espiatoria nel secondo caso e assume il valore di tributo da offrire a Dio perché salvi Israele è già presente questo tema in due Maccabèi ma in quattro Maccabèi questo diventa proprio lampante che la morte è sacrificale è espiatoria è sacrificio come l'animale è sacrificato nel tempo quindi allora la domanda è si può parlare di questo tema senza proprio tener conto di questo che è quello che troviamo nelle fonti peraltro dire che Gesù è una morte associabile a questa perché loro parlano di questi esempi ma poi non li analizzano non li contestualizzano quando Gesù però nei racconti che abbiamo non parla mai per difendere le sue ragioni di testimonianza che è una differenza fortissima rispetto a tutte le altre testimonianze letterarie che abbiamo perché tutti questi qui che muoiono spiegano perché muoiono difendono la legge dicono che loro vogliono sacrificarsi per la salvezza Israele Gesù tasce quindi in questo senso Gesù avrebbe un comportamento completamente diverso rispetto alla tradizione culturale che rimanda a questo è un aspetto che nel mio giudizio andava ancora una volta discusso e qui chiudo dicendo appunto questo che è giusto discutere di questo ma questo significa analizzare bene le fonti e poi aprire un tema e cioè se è possibile immaginare che si è esistito nel giudeismo nel primo secolo una resistenza non violenta cioè se abbia trovato spazio e seguito una linea di opposizione al potere e in particolare al potere romano che non invocava una lotta armata ma offriva la propria vita come difesa della legge l'accostamento che anche gli autori fanno più volte tra Gesù e Teuda che però questo Teuda viene usato a modi giolli da piazzare quando fa un po' comodo senza mai essere pienamente contestualizzato nel suo preciso momento storico che sono i particolarissimi anni immediatamente successivi alla morte di Agrippa I deve far prestare attenzione a un dato che mai è detto che Teuda sia armato e cioè nonostante è stato eliminato al potere romano perché è considerato in qualche misura una minaccia ciò che quindi voglio dire è che la proposta degli autori in sé è valida è una pista di ricerca come qualcuno ha detto prima di me Giovanni Bazzani ha detto alcuni sono spunti da sviluppare ecco anche secondo me sia così sono piste di ricerca ma così come sono state prospettate nel libro restano pura suggestione grazie mi fermo qua grazie grazie abbiamo ancora tre interventi preparati di Caterina Marida e poi Marco Vitelli poi Eric sarà il primo a cominciare la discussione quindi andiamo a questi ulteriori elementi partendo di nuovo con l'Italia partendo da Caterina da Roma grazie allora io spero di non deludere l'auditorio con la mia modestissimo contributo io mi sono non essendo una specialista di Nuovo Testamento né di ricerca su Gesù mi sono concentrata su un aspetto del libro là dove parlano della dell'esegesi biblica di Gesù un tema che io ritengo importantissimo gigantesco su cui gli autori secondo me hanno delle ottime intuizioni fanno delle affermazioni che io trovo perfettamente ragionevoli e altre invece che sono forse più collegate con il loro core business cioè con la dimostrazione dell'aspetto politico del movimento di Gesù che alcuni che appunto mi lasciano un pochino più perplessa c'è innanzitutto una difficoltà nel secondo capitolo gli autori riconoscono che la questione se Gesù fosse letterato se fosse agrammatos anche lui oppure se fosse una persona colta quindi con una conoscenza profonda della legge non è risolvibile con i dati che noi abbiamo fanno un'affermazione che a me mi lascia molto perplessa che la sua conoscenza potesse essere stata acquisita per via orale mi sembra un po' un'esagerazione e meno per quelle esegesi che noi abbiamo nei Vangeli nei Sinottici stiamo parlando dei Sinottici un'esegesi molto complessa che come Frederic Manz ha spiegato benissimo riporta tutte quante quelle regole quelle tecniche che poi noi conosciamo come tecniche esegetiche di Rabbi Hillel quindi tipo il Calua Homer quindi il ragionamento a forziori l'analogia eccetera quindi una 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 esegesi che almeno nelle fonti appare molto molto raffinata e che allora forse bisognerebbe differenziare come in effetti gli autori fanno in una parte del secondo capitolo quando nel capitolo 7 parleranno più in particolare delle esegesi di Gesù considerano l'avventualità di più umani all'interno di un racconto di un logion ma non la ritengono rilevante nei loro ragionamenti cioè dicono sì vabbè potrebbe non averlo mai detta questa cosa Gesù ma sostanzialmente fa lo stesso cosa che io come dire cosa che io a me dà un po' di perplessità insomma mi dà un certo fastidio metodologico gli autori fanno riferimento a uno studio di Chris Kit che mostra come passando da Marco a Luca attraverso Matteo si assiste a una crescente intellettualizzazione di Gesù in Marco 6.3 Gesù ha accolto con scetticismo come maestro a Nazareth perché è un carpentiere in Matteo diventa figlio di un carpentiere in Luca 6 è solo figlio di Giuseppe ed è mostrato mentre prende il rotolo e legge in sinagoga quindi come dire si crea un'intellettualizzazione è un argomento che forse andava poi riportato nel momento in cui si parlava più in generale dell'esegesi ma evidentemente come dire evidentemente non c'era la volontà di approfondire questi appunto questi rinterrogativi non sono poi riportati nel capitolo 7 nella parte in cui più in dettaglio si considera l'interpretazione scritturale di Gesù secondo me siamo su un terreno molto solido quando dicono che il partito di Gesù il modo di comprendere la legge da parte del movimento di Gesù deve essere ritenuto uno dei filoni in competizione tra gli altri all'interno del giudeismo antico e questo diciamo che stiamo cioè si tratta di linee di pensiero si tratta di linee di pensiero nell'interpretazione della legge tutte quante sono presenti tutte quante possono essere legittime e la discussione è prevista questo non lo vi ha chiunque legga la Mishnah o il Talmud la discussione è prevista è prevista anche una grande diversità di opinioni all'interno di una stessa questione il problema è poi però asserire con una grande sicurezza che l'importanza che la legge e le sue interpretazioni avevano per Gesù corrisponda all'importanza che esse avevano per le masse diseredate gli autori parlano fanno l'esempio di questo episodio di uno schiavo di un servo di Claudio che viene rapinato in Giudea e che poi durante le perquisizioni un legionario romano mal consigliato strappa e brucia un rotolo della legge ne segue una rivolta generale in seguito alla quale si decide di appunto di condannare a morte questo questo legionario perché appunto era era stata troppo forte la reazione io non dubito che ci fosse in generale una grande interesse per la legge ma quando si parla di un rotolo strappato come non si parla del contenuto cioè non si presuppone che la conoscenza non si presuppone la conoscenza quanto la l'idea che fosse importante e che fosse un grave atto di sacrilegio ma non credo che siamo esattamente sulla stessa lunghezza d'onda dell'affermazione che per le masse diseredate era importante in interpretazione biblica questo è una cosa che a me mi lascia cioè quanto fossero in grado di comprendere un ragionamento sulla legge un ragionamento alachi il punto importante è che appunto per gli autori è che Gesù ragionava sulla corretta interpretazione della legge e non su un rifiuto dei comandamenti perché se avessero proposto un rifiuto dei comandamenti non avrebbero avuto credibilità nella appunto nella classe rurale la pisantri della galilea ma che ne sappiamo di quali erano gli interessi prevalenti della classe rurale sull'interpretazione legale quello che non riesce a convincermi in una parola non è l'adesione del movimento di Gesù all'etica giudaica e all'ermeneutica giudaica che è indiscusso ma è l'interpretazione classista delle stesse cioè l'idea che le classi inferiori fossero attaccate alla legge più delle classi superiori mi sembra una cosa che se potrebbe essere giusta ma non viene sufficientemente articolata tra l'altro i farisei non erano pescatori o carpentieri tra l'altro questo libro parla molto poco dei farisei secondo me ci vorrebbero più farisei nel senso che per esempio quando ne parla come gruppi che hanno un'autorevolezza consolidata li associa ai sacerdoti dimentica che i farisei quello che ci dice Giuseppe che loro erano stimati per la loro si erano guadagnati una stima per la loro interpretazione della legge quindi la loro autorevolezza non era scontata non era come dire istituzionale ma era qualcosa che ancora in quel momento si stava era in fase probabilmente di affermazione il login di Matteo sulla legge che non cade io non lo so perché insomma io lo dico veramente da profana ma io ho l'impressione di una legge che non cade si dice né un apice né un iota della legge cadrà senza che sia adempiuto adempiuto qui non vuol dire messo in pratica significa realizzato come profezia manca completamente in questo volume un accenno alla questione dell'esegesi attualizzante cioè all'idea che per esempio in Matteo è centrale siamo in Matteo quindi ovvio che potremmo stare parlando di qualcosa di tipico di Matteo e non di un discorso di Gesù ma gli autori dicono va bene potrei però all'aspetto siccome un ragionamento sulla legge è un ragionamento che riguarda solo i giudei fa parte degli strati più antichi comunque degli strati più antichi della tradizione ma non si parla mai di esegesi attualizzante cioè di idea che gli avvenimenti che si stanno svolgendo siano la realizzazione di una profezia profezia che può essere contenuta in qualunque parte delle scritture perché comunque da qualunque parte delle scritture può avvenire una profezia questa è un po' la parte di quello che diceva anche Gabriele della mancanza di base diciamo in qualche modo di una mancanza di collegamento verso un po' più profondo con la con la un collegamento un po' più profondo con quelle che erano le problematiche delle dell'esegesi io ho trovato interessante poi sono andata appunto nella mia nella mia pochezza intellettuale a controllare che cosa ne pensa invece Gerd Thyssen che per l'appunto per gli autori è da mettere in esercito delle tenebre anche se loro rubano un suo argomento credo quello della moneta la moneta con la con la canna quello è un argomento di Gerd Thyssen e loro non l'hanno citato addirittura lui l'ha messo nel suo romanzo l'ombra del Galileo che io ho letto un pezzetto poi mi sono un po' scocciato francamente però sta addirittura nel romanzo l'ombra del Galileo e lì appunto non lo citano Gerd Thyssen per esempio Gerd Thyssen dice che la non coerenza che si osserva nella tradizione sinottica tra l'idea che i comandamenti vadano tutti rispettati che i farisei siano tutta gente rispettabile e che appunto nulla della legge è caduco è una corrispettura è un li collega e invece la tendenza opposta a dire che la legge va completata che il sacrificio non è importante quanto l'elemosina che la purificazione da parte dei sacerdoti non è non è importante non ha un valore è una contrapposizione lui le collega a una contrapposizione tra i carismatici riteneranti e le comunità stanziali nelle comunità stanziali c'era più interesse per la legge perché lui ci fa un discorso di tipo sociologico perché chi non osserva la legge chi mangia cibo impuro chi mangia con i pagani in una comunità stanziale è soggetto alla critica del suo gruppo mentre invece i carismatici si possono permettere di come dire di avere un comportamento più sfidante perché loro per principio sono persone che sono al di fuori della comunità sono al di fuori delle convenzioni sicuramente è un punto di vista io penso sia un punto di vista molto interessante anche se ovviamente è completamente alternativo rispetto a quello degli autori di Jesus Life in Class Conflict anche la lettura che Gert Theisten dà delle prescrizioni alimentari e fa riferimento anche a un brano della vita di Peregrino di Luciano in cui appunto lui perde credibilità perché mangia del cibo non concesso la trattazione degli autori poi però si fa più interessante perché comincia a fare degli esempi pratici di esegesi delle scritture che secondo loro va incontro al tipo di audience che immaginano per il movimento di Gesù ovvero da una parte la classe rurale che costituisce il nucleo attivo del movimento dall'altra la missione ai ricchi in particolar modo mi ha colpito il trattamento della questione delle regole di purità secondo gli autori l'esegesi del movimento si pone verso un rifiuto dell'espansione di queste a ogni ambito di vita quindi non al restringimento in ambito sacerdotale ma l'espansione a ogni ambito di vita tipica dei farisei come carico impossibile da sopportare per l'uomo comune il riferimento all'episodio delle spighe raccolte dai discepoli di sabato Marco 2 23 28 qui Gesù mostra di conoscere applicare la regola del Calwa Homer che è appunto una regola di Lel la regola del pesante e leggero quindi se una cosa è valida per Davide tanto più è valida per l'uomo comune cioè se Davide può trasgredire che è il re perfetto può trasgredire come dire ha creduto buono di trasgredire una regola mangiando i panni di proposizione altrettanto è lecito raccogliere spighe durante il sabato le prescrizioni del sabato sono sempre molto dibattute nell'esegesi giudaica cosa debba essere ritenuto lavoro perché la questione centrale è la proibizione della malacà del lavoro creativo tanto che nella mechittà si trova un detto simile al sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato cioè al detto di Marco 2.27 è un tipo di dibattito quindi non sull'osservanza del sabato ma sui dettagli dell'osservanza che ha senso solo in un contesto a prevalenza giudaica la questione della purità è connessa nei testi anche alla possessione compiere esorcismi è purificare da spiriti che appunto mettono in questa condizione anche se io non sono del tutto d'accordo con la definizione di impurità che danno gli autori che mi sembra un po' ingenua diciamo più che ingenua mancante un po' di prospettiva comparativistica in cui insomma l'impurità è un concetto molto più complesso il discorso più lungo è quello di Marco 7.1.23 che in esso Gesù discute non le norme di purità ma la loro applicazione molto rigorosa da parte dei farisei Marco si sente in dovere di spiegare al suo pubblico cosa comportavano queste norme Matteo nel parallelo non ha questa parte e soprattutto contrappone il comandamento la tradizione degli anziani cioè dei farisei stessa definizione che compare in Matteo questo è il senso dovrebbe essere secondo gli autori e io sono abbastanza d'accordo nella mia umile posizione del verso Gesù dichiarò puri tutti i cibi cioè Gesù dichiarò puri i cibi non al di sopra delle norme di purità del cibo generale quindi animali sacrificati il sangue il maiale gli animali non considerati non cascere ma quanto riguardo alle norme speciali che i farisei avevano ampliando la norma avevano applicato al avevano applicato al 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 mangiare alla sfera del del mangiare Gesù non era contrario a farlo steccato attorno alla torà semplicemente lo faceva per altre cose tutta la serie di comandamenti che da di ampliamento dei comandamenti è detto non amare ama i tuoi nemici ma tu devi ma io dico eccetera cioè tutta questa espansione è di fatto una all'interno di una serie di norme considerate diciamo che noi consideriamo etiche ampliare appunto ampliare mettere appunto lo steccato attorno alla torà si pone poi l'accento sulla purità morale rispetto a quella esteriore la stessa contrapposizione si ha nel detto della fonte Q sulle decime non sono del tutto d'accordo che le liste di vizi siano specialmente diretti verso l'elite perché non si capisce perché i poveri non possono avere vizi anche se alcuni certo l'avidità alcuni vizi la lorberia eccetera potrebbero essere rivolti verso secondo me però ce n'è un po' per tutti gli autori espandono l'argomento dell'impurità usando la parabola del buon samaritano in una lettura che trovo interessante cioè il sacerdote e l'evita evitano il mezzo morto perché il loro timore dell'impurità possibile toccando un cadavere è forte della loro solidarietà della loro capacità di empatia a parte lo scivolone di dire il samaritano è un sadduceo lì veramente mi sono cascate le braccia perché come si fa a dire che un sadduceo non gliene importa niente delle regole di purità i sadducei erano i sadducei erano quelli che se la sono inventata la purità vabbè poi io ho delle idee particolari sui sadducei però secondo me il samaritano in realtà è semplicemente un outsider che si può permettere di fregarsene delle regole di purità ricordiamo non so io dico una cosa che mi ricordo che una donna samaritana è come se fosse perennemente mestruata quindi non ha proprio purità non può rendersi impura perché non c'è proprio la categoria della purità per quanto riguarda invece la donna sadducea c'è questo fatto che si dice che le donne dei sadducei vanno dai farisei a chiedere adesso una cosa del Talmud vanno dai farisei a chiedere consigli sulla purità perché non si fidano della laca sadducea vabbè sono cose e quindi sia perché non ha preoccupazioni formali sia perché il mondo di Gesù è capovolto almeno in questa cosa poi che i samaritani non sono nella tradizione sinottica i samaritani non sono da evangelizzare perché insomma questo poi è un'altra cosa e tra l'altro io penso che il buon samaritano sia un esegesi di Esodo 21-21 cioè sul fatto del ferito che va curato con le proprie con le proprie sostanze che è tra l'altro anche la anche la 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 motivazione teologica della medicina nell'ebraismo cioè quel versetto lì è quello da cui si parte con l'esegesi per la motivazione della liceità di curare gli ammalati perché altrimenti uno potrebbe dire se sei ammalato è perché Dio l'ha voluto e quindi non dovrei farmi gli affari miei concludendo questa interpretazione meno stringente e pervasiva delle regole di purità andava incontro da una parte all'esigenza della popolazione più povera che è intuitivo non poteva permettersi una vita di evitazioni sospensioni del lavoro per impurità eccetera e dall'altro risolvere il problema della missione ai ricchi che pure conducevano una vita non esattamente in linea con l'interpretazione più restrittiva della legge ed ecco anche perché era problematico che Gesù mangiasse con loro grazie 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 molto anche per aver introdotto questi elementi alachisci e ora abbiamo Marita e Marco poi faremo un momentino di intervallo e poi apriremo la discussione che sarà introdotta per primo da Eric e invito tutte le persone che ci stanno seguendo già a esprimersi nella chat per i loro commenti e le loro domande perché poi verranno ripresi nella discussione Marita sì grazie allora parto anch'io dalla da ciò che ho apprezzato ho apprezzato molto la insistenza sulla correlazione tra individuo e gruppo l'abbandono di interpretazioni romantiche o quantomeno esclusivamente religiose per esempio dell'itineranza del gruppo intesa come scelta libera anche se sono molto d'accordo con quello che ha detto Gabriele sul fatto che una vera next quest dovrebbe rispettare la inscindibilità delle diverse dimensioni di fenomeni complessi dentro un sistema culturale come quello di cui le nostre fonti ci parlano e a cui appartengono i protagonisti in cui quindi dimensioni materiali e spirituali storico-politiche e religiose sono fondamentalmente inscindibili da un punto di vista direi femminista ho apprezzato anche la tesi che nonostante le caratteristiche un po' queer apparentemente demascolinizzanti del gruppo gesuano tanto Gesù che il suo gruppo si muovano inevitabilmente all'interno del sistema culturale condiviso fondato sulla Torah attestando in modalità diverse il consolidamento dei valori tradizionali per esempio quanto alla serietà dei legami familiari anche io come ha detto Caterina poco fa non so se si possa attribuire soltanto ai contadini o all'ambiente rurale questa fedeltà diciamo così ai valori tradizionali penso anche che sia da valorizzare il monito che gli autori fanno rispetto a letture storico-politiche dell'epoca di Gesù dei Sui Seguaci che tendono a smorzare il fuoco dell'antiromanità sotto la cenere per intenderci del Sub-Tiberio-Quies cito da pagina 57 un focus riduttivo su diciamo casi di violenza o disordine che si supponano isolati può trascurare troppo velocemente la violenza sistemica che è inerente allo stato normale delle cose penso che il rapporto tra casi isolati e sistema violento potrebbe essere molto interessante e quindi che ne so per richiamare il paradigma di destro pesce parlare di una percezione della crisi come un fattore decisamente condizionante per il generarsi dei movimenti tanto battista che gesuano passo a quello che invece trovo molto più problematico e che riguarda dato il mio ambito di competenza più specifico cioè l'esegesi di Giovanni riguarda il maltrattamento del quarto Vangelo diciamo in una lettura più benevola direi che gli autori si perdono dei dati utili a supporto della loro di un aspetto fondamentale della loro ipotesi che io ho apprezzato molto quello sviluppato nel capitolo 8 cioè l'opzione preferenziale per la morte di Gesù e del suo gruppo in una lettura un po' più critica direi che si fanno portatori di un'ermeneutica antigiudeica del quarto Vangelo estremamente pericolosa e in mio parere ormai se non decostruita certamente è molto controversa nel dibattito scientifico parto da questo secondo aspetto macroscopico per tornare poi al primo il giudizio più pesante sul quarto Vangelo non riguarda la sostoricità che potrei dire è una questione astratta perché poi bisogna guardare testo per testo caso per caso ma riguarda la misura in cui secondo gli autori il Vangelo esprime cito agghiaccianti tendenze simil fasciste che si sviluppano verso la fine del primo secolo e dimostrano il fallimento della rivoluzione gesuana cito ancora pagina 273 non dobbiamo andare oltre il Vangelo di Giovanni scritto verso la fine del primo secolo per osservare come in alcuni filoni del pensiero cristiano emergente si sviluppò un'ideologia proto-fascista che prese il posto degli impulsi rivoluzionari iniziali che non erano riusciti a mettere radici dunque diciamo secondo gli autori in Giovanni l'etnicità giudaica sarebbe sostituita con la generazione divina dei puro sangue che accolgono Gesù e questo sistema diciamo questa sostituzione sarebbe not unlike the reactionary political ideology of the 20th century nazism addirittura il nazismo e dunque Giovanni mostrerebbe i segni già di un movimento che va oltre un'autocomprensione giudaica in direzione profondamente antigiudaica addirittura l'identificazione di Gesù con il Dio dell'universo esprimerebbe l'emergere di un sistema teologico che col tempo avrebbe potuto supportare la trasformazione del cristianesimo in religione dell'impero romano diciamo al netto del dibattito che è ultra aperto su queste tematiche non c'è un solo accenno alla polemica antirromana del testo che tanti che tanti studiosi riconoscono solo per accenno l'ironia del pronunciamento messo in bocca e sommi cerruti in 1915 non abbiamo altro re che Cesare in contrasto con l'addotta colpa di Gesù in 1912 che sarebbe di contraddire al Cesare per essersi fatto re ne accenno al fatto che l'accusa principale mossa ai iudaio del testo non è quella di non credere perché è proprio la fede dei giudei che precipita per ragioni politiche la situazione ma casomai quella di praticare una violenza omicida desiderare cercare di uccidere oppure di non avere il coraggio di portare fino in fondo la propria lealtà messianico politica a Gesù quindi non avere il coraggio di confessare pubblicamente la propria lealtà verso questo leader riconosciuto come messia allora mi chiedo se non è per ragioni pregiudiziali perché questa esclusione a prioristica della versione giovanea della vicenda perché non leggere anche quella in termini materialistici e di storia sociale torno al primo aspetto c'è il modo concreto di rapportarsi al quarto vangelo nella ricostruzione della storia diciamo che palesemente si perpetua un po' la tirannia del Gesù sinottico che già John Paul Mayer diceva dovrebbe essere gettata nel cestino dei post bultimaniani il quarto vangelo accusato di manipolare i dati in maniera molto frettorosa pur se anche le sinottici si riconosce un'agenda ideologica evidente già Gabriele ha citato il modo in cui la teologia del quarto vangelo viene evocata contro un utilizzo del testo per una ricostruzione complessiva però mi pare lampante il problema che gli autori devono ogni volta precisare che benché Giovanni ordinariamente non sia una fonte utile tuttavia spesso lo è per esempio relativamente al carattere battista del momento di Gesù è possibile che in questo caso il vangelo di Giovanni anche se non intenzionalmente sia corretto oppure nel caso della folla che in Giovanni emerge con la sua naturale indipendente e interdipendente fisionomia autonoma anche se ovviamente il testo di Giovanni non può essere privilegiato nella ricostruzione storica oppure anche il caso della riva a Gerusalemme prima della Pasqua per il processo di purificazione necessario e i pellegrini lascio stare l'assunzione che sembra quasi a critica dello schema geografico di Marco per cui tutta la storia del movimento va dal nord al sud fino allo scontro finale una volta a Gerusalemme l'ultima cosa che mi interessa di più è appunto il capitolo ottavo quindi gli autori dicono che fanno una suggestion cioè propongono che quindi non dicono di averla argomentata fino in fondo ma pare una suggestione forte riguarda appunto l'opzione preferenziale di Gesù e del suo gruppo per la morte ispirata alle tradizioni maccabaiche e alla morte eroica dei resistenti trovo trovo apprezzabilissima la lettura di Marco 10 35 45 in questa direzione ma trovo incredibile il fatto che pur tirando fuori i temi cruciali delle tradizioni sulla morte eroica diciamola così evitando il termine martirio di matrice maccabaiche quindi disponibilità a offrire la vita virilmente per Dio la legge il paese con beneficio di riscatto barra espiezione per il popolo avendo in ricompensa onore vita eterna immortalità pur richiamando tutto questo complesso maccabaico gli autori individuano dei paralleli soltanto in Marco e non per esempio nel quarto Vangelo dove tutto parte con l'anticipazione del gesto profetico nel tempio al capitolo 2 con l'annunzio prolettico della morte di Gesù a causa dello zelo religioso morte poi nella trama del quarto Vangelo costruita come frutto di una strategia di tempi di azioni come frutto di libera scelta come fedeltà pubblica e testimoniare alla propria causa assunzione di responsabilità verso il proprio ruolo di leader morte in glorificazione o potremmo dire con una terminologia giudeca successiva in santificazione del nome pensa Giovanni 20 27 seguenti ora l'anima mia è terrorizzata e che devo dire padre salvami da quest'ora ma per questo sono venuto per quest'ora padre glorifica il tuo nome ma un passo come questo nella diciamo riconfigurazione di tanti loghi asinottici che sono utilizzati da Giovanni per costruire la sua versione del Getsema nel capitolo 12 si può leggere benissimo con un testo come quello di primo Maccabè 9-10 Giuda al momento in cui il suo esercito è ridotto ai minimi termini sa che rischia la morte gli viene proposto di fuggire noi non faremo mai una cosa simile fuggire da loro se è giunto il nostro Kairos moriamo da eroi in Andrea virilmente per i nostri fratelli e non lasciamo ombra la nostra gloria tutta la testimonianza del quarto vangelo sembra dedicata a testare pubblicamente nonostante l'ignominia la dignità di questa morte regale e del suo protagonista che l'accetta consapevolmente in glorificazione del nome dunque io direi te se di una next quest si deve parlare e queste intuizioni io le trovo assolutamente apprezzabili questa next quest va pensata a partire dal chiudere i conti con una tendenza dissociativa dio uomo teologia storia materiale spirituale motivazioni sociali motivazioni religiose nel sistema culturale di cui i testi ci parlano e a cui appartengono i protagonisti questa dissociazione è vietata perché non cercare di tradurre in termini storiografici l'intero sistema culturale l'interesse delle fonti e non soltanto alcuni brani piuttosto che altre alcune fonti piuttosto che altre perché non lavorare sistemicamente grazie grazie veramente anche per questi commenti finali insomma che credo siano molto importanti concludiamo questa parte di presentazione con Marco Vitelli e poi faremo un momento di pausa e ci ritroveremo quindi per la discussione prima datemi un feedback per l'audio se si sente allora io come d'accordo con gli organizzatori concenso questo mio breve intervento sulla ricostruzione della Galilea offerta dal libro di Crossley e Miles un libro che vode dire nonostante i limiti che vi si possono scorgere e riscontrare alcuni dei quali anche io metterò a fuoco costituisce comunque a mio giudizio un contributo rilevante al dibattito accademico sul Gesù storico come è noto la Galilea del tempo di Gesù è stata ed è tuttora oggetto di due interpretazioni divergenti nel quadro della ricerca storica l'interpretazione più tradizionale ancora oggi prevalente tra gli studiosi che adottano un approccio di taglio sociologico come ad esempio Richard Horsley restituisce un'immagine della regione come di una realtà segnata da forti sperequazioni economiche e tensioni sociali che avrebbero avuto l'effetto di fare di quel territorio una fucina di rivoluzionari l'altra interpretazione relativamente più recente è diffusa soprattutto negli studi di stampo archeologico ad esempio quelli di Morten Jensen e di Mordecai Aviam offre invece un profilo sostanzialmente armonico della Galilea come di una regione caratterizzata da una economia complessivamente florida ed a una buona stabilità politica e sociale Horsley e Miles appaiono ben informati del dibattito storiografico corrente e ricepiscono alcuni elementi del modello interpretativo armonico sulla Galilea ma si attestano poi su una posizione che di fatto si avvicina molto di più al modello che potremmo definire conflittuale ne potrebbe essere diversamente visto che questa è condizione necessaria per la tesi del conflitto di classe sulla quale essi basano la loro lettura della vicenda di Gesù e del suo movimento millenarista e rivoluzionario in particolare essi enfatizzano l'impatto economico e sociale dell'attività edilizia di Antipa in Galilea concretizzatasi nella ricostruzione di Sepphoris e nella edificazione di Tiberiade tale attività a loro parere pur avendo avuto temporaneamente effetti benefici su una parte della popolazione avrebbe tuttavia gravemente compromesso la sicurezza economica di un'altra parte probabilmente maggioritaria della popolazione rurale questo processo di urbanizzazione avrebbe comportato tra le altre cose un incremento della tassazione che due autori definiscono eccessiva e avrebbe favorito un sistema di sfruttamento dell'elite urbane sulle campagne di conseguenza la parte della popolazione più colpita da questi cambiamenti avrebbe avuto dinanzi a sé soltanto due opzioni il banditismo e il millenarismo due fenomeni talora sovrapponibili che caratterizzavano il paesaggio sociale per così dire della Palestina del primo secolo come testimonirebbero vari episodi della guerra giudaica e l'esistenza di profeti millenaristi come il Battista Teuda e l'egiziano in parte questa condivisione è a mio giudizio condivisibile non c'è alcun dubbio che esistessero sacche di povertà e disagio se lo negassimo il fenomeno di Gesù e in particolare la dimensione sociale della sua predicazione giustamente evidenziata dai due studiosi diverrebbe incomprensibile similmente Cross e Lee e Miles hanno perfettamente ragione a sottolineare che nonostante una situazione di complessiva prosperità della regione doveva però esserci un problema serio di distribuzione delle ricchezze la loro ricostruzione della Galilea presenta non di meno delle criticità che penso sia utile mettere in evidenza intanto sul livello di pressione fiscale nella regione al tempo di Gesù sappiamo ben poco non è neanche certo che Antipa pagasse un tributo a Roma anche se questa rimane l'ipotesi più seguita ma non c'è alcuna chiara fonte su questo punto alcuna indicazione alcuna evidenza diciamo incontrovertibile su questo punto inoltre non è detto che la sua attività edilizia sia stata realizzata solo con gli insoliti fiscali Bradley Root che è uno studioso che ha dedicato non so più anni fa un bel libro di sintesi delle ricerche sulla Galilea sostiene letteralmente cito è pressoché certo che una parte dei costi di ricostruzione potrebbero essere stati finanziati con le ricchezze personali del governante cioè Antipa si aggiunga che oggi si è abbastanza concordi nel ritenere che il rapporto tra città e campagna non si risolvesse solo in una forma di sfruttamento di quest'ultima da parte della prima la città offriva anche un mercato di sbocco per i prodotti agricoli opportunità di lavoro e quindi di impiego lavorativo per gli abitanti dei villaggi Crossley e Miles insistono molto sul fatto che secondo il testo di antichità giudaiche 1836-38 la fondazione di Tiberiade avrebbe comportato una dislocazione forzata in una parte della popolazione rurale nonché casi di esproprio il passo di Giuseppe tuttavia a ben vedere non parla affatto di espropri che possono solo essere diciamo a limite ipotizzati e i destinatari del provvedimento di dislocazione forzata si dice che provenissero dalle terre di Erode il che potrebbe voler dire che erano suoi mezzari inoltre lo storico giudeo sottolinea come il tetrarca incentivò il popolamento della città con l'assegnazione di terre e case a sue spese cioè di antica stessa a quanti vi si trasferissero nonché con l'affrancamento di chi non fosse di condizione libera non sembra insomma che l'effetto di queste iniziative edilizie fosse così destabilizzante come i due studiosi ipotizzano né quindi che il disagio sociale senza dubbio allora esistente sia ad esse imputabile piuttosto che essere il frutto almeno in parte se non principalmente di criticità pregresse reeditate dall'altretarca che sappiamo non mancarono basti pensare che ne so alla guerra di Varo o agli scontri tra i rode e quelli che Giuseppe definisce banditi o ancora prima la guerra le devastazioni della guerra di Pompeo insomma si potrebbe andare ad un elenco di elementi che attestano questo disagio che esisteva già da prima e che Antipa potrebbe aver ereditato del resto gli studi di Moltenienze hanno dimostrato che l'impatto economico di Antipa sulla Galilea fu nel complesso moderato e che l'economia della regione potrebbe avvantaggiarsi di un periodo prolungato di notevole stabilità politica basti dire che Antipa con i suoi 43 anni di governo nella longevità al potere superò il padre cioè ero del grande tutti gli altri erodi con l'eccezione di Agrippa II tutti i sovrani Asmonei e tutti i governatori romani e il suo prolungato governo della regione non risulta turbato da alcun serio problema di ordine pubblico l'unica relativa eccezione è data dall'uccisione di Giovanni il Battista ma questa non avvenne in Galilea né dire luogo a sommosse di alcun tipo e neanche si può ritenere la sua predicazione cioè di Giovanni svoltasi prevalentemente in Perea come una reazione alla situazione galilaica come riconosce anche Osley e altresì interessante notare che Antipa nonostante disponesse di un efficiente apparato repressivo e fosse sensibile a qualsiasi pur labile indizio di minaccia al suo potere abbia evitato di far arrestare e giustiziare Gesù limitandosi ad attenzionarlo e forse ad intimidirlo per spingerlo fuori dai suoi domini come si può interpretare a mio parere il passo di Luca 13 31 33 dove dei farisei avvertono Gesù che Erode vorrebbe ucciderlo e quindi c'è un diverso comportamento diciamo di Antipa nei confronti di Giovanni il Battista e nei confronti di Gesù poi sui motivi si potrebbe riflettere quali siano e magari lo si può fare in un secondo momento nella discussione collegato col tema della stabilità politica della regione al tempo di Antipa c'è un ultimo rilievo critico che vorrei brevissimamente sollevare nel tratteggiare il contesto sociale e politico del movimento di Gesù Crossley e Miles danno l'impressione di considerare la Palestina del Pumose per inziata non tenendo debitamente in conto certe distinzioni di ordine cronologico e geografico politico e finendo così col misconoscere per alcuni aspetti la specificità della situazione galilaica al tempo di Gesù essi infatti insistono molto sulla realtà del brigantaggio e su quella dei movimenti millenaristi ma tutti gli esempi che essi producono in tal senso non hanno specifica attinenza con la Galilea di Antipa ma rimandano piuttosto ora alla Galilea del periodo della guerra giudaica per quanto riguarda ad esempio l'attività dei briganti ora alla Perea nel caso di Giovanni il Battista ora alla Giudea dell'età dei procuratori come nel caso di Teuda o dell'Egiziano le fonti infatti sono significativamente silenti sulla realtà del brigantaggio nella Galilea di Antipa è interessante ad esempio che tutti i riferimenti dei Vangeli ai Lestai siano tutti collocati nel contesto della Giudea propriamente detta e proprio Giuseppe diciamo così non fa nessun accenno a fenomeni di banditismo per questo specifico periodo e lo stesso si può dire per quanto attiene al millenarismo naturalmente con l'eccezione del movimento stesso di Gesù con questo naturalmente non intendo affatto sostenere che nella Galilea del periodo di Antipa non vi fosse il brigantaggio che non vi fossero fermenti apocalittici ma ritengo che questi fenomeni in questa fase specifica della storia galilaica furono molto meno accentuati che nella Giudea e nella stessa Galilea del periodo successivo al 44 d.C. quando anche quest'ultima la Galilea come già da tempo lo era la Giudea verrà integrata nel sistema provinciale romano e i rapporti tra Giudei e Romani conosceranno un progressivo e drammatico deterioramento e con questo mi taccio e vi ringrazio grazie 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 Marco veramente di cuore e grazie a tutti per questa vivacissima siamo riusciti a non ripeterci nel senso che mi pare che la discussione abbia introdotto ciascuno abbia introdotto nella discussione degli elementi particolari molto molto interessanti direi che adesso potremmo fare 4-5 minuti di interruzione di poso per sbranchirci le gambe e riposarsi un pochino rimetterci un pochino le idee a posto ritrovarsi tra 5 minuti entro 5 minuti esatti e poter dare in via la discussione chiederei allora a Eric di dire qualche breve commento iniziale e poi cerchiamo di avere una discussione abbiamo un'ora molto agile in cui magari facciamo molti brevi interventi ma evitando lunghi discorsi ma cercando di interloquire su quelli che sono gli aspetti che ci hanno più colpiti in questa discussione ringrazio anche tutte le persone che ci stanno seguendo numerosissime e di nuovo invito se volete anche approfittare di questi momenti di pausa per scrivere domande o fare commenti noi li possiamo vedere tutti poi e potiamo rispondere o interloquire con quelle che vengono le sollecitazioni anche da parte delle persone che ci stanno seguendo ecco allora mi interrompo qui interrompo anche la mia videocamera e ci si rivediamo tra quattro minuti benissimo torniamo allora torniamo allora lentamente nella nella diretta invito tutti i tutti i relatori anche a guardare un po' la chat quelli che sono gli interventi che sono i molti interventi che sono stati fatti anche da parte del pubblico del numeroso pubblico il nostro incontro è seguitissimo vedo perché abbiamo un numero molto altre persone qui che ci seguono nella nella zoom e molte molte dirette su facebook perché è stato condiviso il nostro incontro è condiviso in molte pagine e gruppi di facebook quindi sta diciamo avendo un un'ottima audience e fra l'altro registrato sarà continuerà poi ad essere disponibile con anche nei giorni e nelle settimane prossime insomma bene allora io inviterei subito eric a cominciare la fase della discussione con qualche breve annotazione ti è seguito tutto il nostro dibattito e poi liberamente possiamo usare anche la la funzione della della manina oppure semplicemente alzare la mano del del video fra di noi per uno scambio molto informale molto agile per questa ora che abbiamo di discussione eric allora un problema tecnico io ok benissimo no dicevo grazie mille per questa questa bella tavola rotonda che nasce da un libro estremamente interessante provocatorio e con tutti gli spunti positivi e le critiche naturalmente che sono state fatte per cui non mi ripeto su questo mi colpiscono alcune cose che vorrei mettere in evidenza allora il primo punto che mi colpisce che in parte naturalmente condivido anche cioè questa critica dell'idea appunto del big man che fa il movimento cioè il grande personaggio storico che viene prima del movimento questo d'accordo è una critica legittima e anche importante però mi chiedo non rischia di farci perdere troppo di vista l'originalità anche del personaggio per esempio in questo caso proprio di Gesù secondo me Gesù ha avuto delle originalità molto forti anche rispetto a Giovanni Battista secondo me questo ci tengo un po' a insistere mi piace molto l'idea della continuità di Vinolfi sono totalmente d'accordo di fatto però mi piace sottolineare anche un po' di autonomia un po' di originalità da parte di Gesù però ecco questa idea di sopprimere il big man per trovare il sottolineare invece il movimento che produce poi le persone che stavano a portarlo avanti non rischia veramente di cancellare un po' troppo lo specifico in questo caso del Gesù storico che secondo me invece ha degli elementi molto importanti che hanno segnato secondo me in maniera indelebile la ricerca successiva primo punto seconda osservazione quello che mi colpisce spesso nell'ambito accademico della ricerca e in questo caso potremmo prendere la metafora del big man perché funziona bene anche in questo caso in questo libro è che il big man viene soppreso nella storia però gli autori si sentono invece molto big man accademici cioè questo staccarsi completamente diciamo così dalla ricerca appunto tradizionale che viene bollata viene etichettata viene magari messa da parte e presentarsi come ok adesso vi spiego io ecco questo secondo me appunto è una deriva narcisistica che certe volte notiamo anche nella ricerca accademica in certi tempi secondo me questa invece è molto rischiosa cioè secondo me se questi nostri autori avessero tenuto un po' più in conto avessero diciamo così concesso un po' di più a chi ha fatto ricerca negli ultimi 250-300 anni forse tanti di quegli aspetti diciamo di quei limiti che sono stati evidenziati finora giustamente forse sarebbero stati un po' un po' meno evidenti un po' meno pesanti cioè voglio dire adesso secondo me è molto difficile anzi secondo me è impossibile mettere da parte un Tyson ma anche un un Mayer puoi essere d'accordo va bene però non è possibile metterlo da parte è un interlocutore importante sono interlocutori importanti per sviluppi la tua idea la tua tesi d'accordo però sono interlocutori con cui devi dialogare e ogni tanto veramente adesso in questo caso si sente fino a un certo punto ma in certi casi in certe pubblicazioni veramente cioè l'idea è proprio hanno sbagliato tutti adesso ti spiego io che statisticamente soltanto per la statistica non può funzionare quindi c'è un po' un atteggiamento appunto si toglie il big man dalla storia però poi tu presenti come big man o la big woman ok quindi c'è anche questo elemento questo per accentuare ancora un punto che secondo me è fondamentale e qualcuno di voi l'ha messo in evidenza che è la necessità di non lavorare per il compartimento di stagni cioè nella ricerca c'è ancora troppo questo discorso appunto Gabriele lo diceva per l'enochismo ma si può dire per i tanti aspetti cioè questo è uno dei grossi limiti di questo libro proprio questo lavoriamo un po' per il compartimento di stagni cioè certi discorsi non entrano neanche nell'orizzonte e non sono discorsi marginali cioè l'enochsemina da quanti anni va avanti 20-30 anni cioè è passato del tempo sono state fatte le pubblicazioni non le ha lette non ci ha riflettuto ebbè un problema se non è fatto così anche per altre cose e questo è un atteggiamento un po' che si ritrova spesso troppo spesso nel mondo nel mondo accademico mentre invece è da lì che veramente e lui ci sono d'accordo cioè se si vuole far partire una quarta fase della ricerca la prima dobbiamo assestare decisamente la nostra conoscenza del periodo del Gesù storico del primo secolo in questo periodo c'è ancora tanto lavoro da fare in quel senso poi poi si potrà pensare ad altre cose un ultimo commento velocemente trovato questo testo molto interessante però mi dispiace che dialoghi poco con tutta quella parte esegetica appunto è sottopoccato Horsley ma si potrebbero provocare tanti altri nomi qualcuno compare però pare che si voglia giocare un po' un po' da soli cioè tutto questo discorso delle letture politiche della Bibbia e del Nuovo Testamento in particolare e qui mi permetto di metterci un po' di ampliare un po' il discorso di fuori dell'ambito accademico non è interessante solo da un punto di vista storico ma è anche uno stimolo importante secondo me oggi nel discorso generale anche per le chiese per le chiese che vivono degli apporti del mondo accademico è un approfondimento in questo ambito oggi in questo momento in cui assistiamo a guerre a situazioni ambientali eccetera eccetera è necessario approfondire questo discorso e qui di nuovo è importante che sia fatto tenendo presente la pluralità delle voci e questo libro mi sembra che lo faccio troppo poco con la sua particolarità estremamente interessante però ecco è un tema che va approfondito va approfondito prima di tutto accademicamente perché poi si possa fare in altri ambienti una riflessione teologica partendo da queste letture politiche del nuovo testamento in generale in questo caso in particolare della figura del Gesù storico comunque queste alcune flash alcune reazioni un po' ai vostri interventi e naturalmente alla luce della lettura di questo volume grazie mille grazie Eric apriamo la discussione perché penso che ci siano reazioni commenti da parte di voi tutti insomma ecco quindi chiunque vuole cominciare cominciamo svelto Dario no no ringrazio Eric perché hai detto le cose del tutto condivisibili mi è piaciuta questa definizione di questa deriva narcisistica che in effetti c'è secondo me il problema più grande c'è un problema che dobbiamo partire proprio a monte cioè il modo in cui si si approccia alle fonti perché un grande problema che in questa deriva narcisista perso anche ad altri libri usciti recente spesso si ha una tendenza ad un uso che a me sembra quasi manipolatorio delle fonti cioè quest'uso per cui l'autore lo studioso si fa padrone e giudice un po' arbitrario di come utilizzare certi documenti anche Marita ha fatto un'osservazione intelligentissima se tu hai detto che Giovanni non è buono non è che poi quando ti fa comodo ci peschi un po' di Giovanni perché ti torna utile cioè bisogna individuare comunque dei criteri una coerenza nel modo in cui ci si pone nei confronti delle fonti invece la tendenza che si ha è in questa specie di individualismo sfrenato del ricercatore si fa lui stesso giudice delle fonti l'altra parte a me sembra un'altra cosa un po' assurda cioè questa specie di smania di creare un nuovo filone di ricerca una quarta ricerca una next ma perché bisogna fare una nuova ricerca cioè voglio dire noi abbiamo chiamato una certa fase della ricerca terza ricerca vent'anni dopo che era cominciata cioè è il dopo che fa dire che quella era una nuova fase della ricerca non che io mi metto a tavolino e dico ragazzi adesso comincio una nuova fase della ricerca questa è pura esibizione dal mio punto di vista cioè perché si parte all'idea che devo essere per forza originale ma se può anche non essere originale o meglio il mattoncino dell'originalità può essere anche uno solo all'interno di altre posizioni più convenzionali non è che per forza deve essere un intero pacco di lego tutto nuovo insomma ecco cioè ognuno porta un suo piccolo mattoncino poi fra trent'anni qualcuno dirà e dirà che che ne so che Piovanelli e Boccaccini hanno iniziato la quarta ricerca ma lo diranno trent'anni dopo ecco questo era quindi volevo dare forza a quello che diceva Eric Novke giusto altri dei deneratori che vogliono che vogliono interlocuire ma per fare eco a Dario la questione delle folle l'importanza delle folle che nel modello sociologico degli autori serve a correlare a ricondurre l'individuo al gruppo però loro stessi riconoscono che se usano le ricorrenze di folla in marco devono tenere conto del fatto che folla può essere semplicemente redazionale e servire agli scopi ideologici dell'autore e allora perché prendiamo folla lo diamo per buono lo utilizziamo come dato storico se nel modello sociologico in base al quale io leggo le fonti allora mi serve se invece non mi serve dico per redazionale ideologico e quant'altro cioè manca veramente un approccio sistemico alla questione dove tutto ha valore e non ha valore dipende dal punto di vista bene continuiamo perché il dibattito è fra noi leggendo nella chat anche che cosa ci viene detto dal nostro pubblico cercando rispondere sarei curioso di sapere meglio anche da Adriano che hai scritto recentemente anche questo libro di introduzione sui cerchi di Gesù che reazione hai avuto anche al dibattito che c'è stato fra di noi beh è interessante decisamente direi perché insomma si sono evidenziati alcuni dei limiti oggettivi che il volume ha oltre ovviamente a quelli che sono i suoi pregi ad esempio tu hai notato che in un certo senso la tua critica è stata relativa al fatto che l'analisi proposta è fin troppo marxista nel senso si 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 considera la sovrastruttura ideologica ideologica quindi anche ideologica tutto il mondo delle idee come in fondo marginale rispetto alla vera questione che si gioca tutto a livello di struttura nei termini marxisti e questo se vogliamo è un po' un limite perché si è vero che oggettivamente bisogna considerare il movimento gesuano e tutto il contorno ovviamente partendo dal basso questo si quindi ottimo giustamente l'idea mi è piaciuta molto l'idea che viene sostenuta nel libro a più riprese del fatto che Gesù è certamente il prodotto del movimento gesuano più che il movimento gesuano un prodotto di Gesù questa è un'idea sicuramente interessante che in buona parte condivido anche perché come tu ben sai io condivido l'idea di una sostanziale continuità tra il Battista e Gesù però poi ecco si butta via il bambino con l'acqua sporca nel senso che si sottostima il contributo che poi il singolo individuo può dare poi all'accadere poi reale allo svolgersi reale dei fatti storici per cui insomma a un certo punto proprio all'inizio del libro loro dicono anche se non ci fosse stato Gesù sì la storia sarebbe variata nei particolari però poi nella sostanza sarebbe stata identica e su questo io non sono non sono così convinto di questo nel senso è un po' come dire se Einstein non avesse scoperto la teoria della relatività l'avrebbe scoperta qualcun altro probabilmente sì ma quando c'è quindi c'è magari vent'anni di ritardo avrebbero comportato l'assenza della bomba atomica su Hiroshima per esempio quindi non lo possiamo sapere quindi in un certo senso questa prospettiva eccessivamente riduzionista taglia un po' troppo fuori sia l'aspetto appunto come hai notato tu diciamo del mondo delle idee che in qualche modo influenza necessariamente lo svolgersi poi dei fatti storici e mette un po' troppo da parentesi poi il contributo dei singoli ai fatti sta allo svolgersi della storia stessa e questo è un po' il limite cioè nel senso si appunto come dicevo prima si tende un pochino troppo a buttare il bambino con l'acqua sporca ben venga tutta la critica appunto all'idea delle ricostruire la storia di Gesù come il Big Ben cioè quello che gioca un po' in solitaria come completamente distaccato o comunque una personalità così altamente creativa da essere fondamentalmente indipendente dal suo contesto però neanche risolvere completamente la figura storica di Gesù nel suo contesto soprattutto nel suo contesto puramente strutturale cioè di rapporti economici e di conflitto di classe senza prendere minimamente in considerazione poi l'aspetto del mondo delle idee che si sovrapponeva e che comunque influenzava poi cioè sono due livelli che su struttura e sovrastruttura si influenzano vicevandevolmente invece qui il rapporto è un po' troppo unidirezionale ecco questa è la mia idea io farei una carrellata proprio al ritroso di come seguendo anche l'ordine degli interventi abbiamo fatto magari per Luigi se ci dici qualche riflessione poi Federico e Giovanni riflessioni il problema dell'eroe è un falso problema voglio dire io l'ho affrontato con altri dal punto di vista della leadership carismatica riprendendo Tyson tutto questo lo sappiamo da cent'anni cioè che i due fenomeni siano complementari che il gruppo faccia l'eroe e che l'eroe faccia il gruppo lo sappiamo da Emil Durkheim 1912 le forme elementari della religione e poi dopo venne Max Weber nel 1920 1922 quindi sono cose che si sanno e si risanno da tanto tempo poi adesso oggi si usano in maniera polemica mi sembra che le abbiano utilizzate in maniera polemica un po' gratuita da parte loro questo libro anzi questa propria linea di ricerca diciamo la verità si inserisce in una critica sociale importante giustificata della società inglese contemporanea cioè come al solito il ricercatore guarda nel pozzo e vede crede di vedere la luna ma vede il suo ritratto vede la sua immagine Crossley sta criticando e si vede lo dice l'ha detto anche chiaramente sta criticando l'Inghilterra tacceriana e post tacceriana dalla taccera a Tony Blair il che è legittimo è anche legittimo però lo fa attraverso questo tipo di discorso di metadiscorso sulla Galilea e sulla Giudea del primo secolo della nostra era questo penso sia uno dei limiti più importanti un'altra cosa un altro fenomeno che mi preoccupa è questo mettere da parte la cultura in modo molto marxista però diventa preoccupante quando si elimina tutto quello che è culturalmente giudaico tu dirai enochico apocalittico per me questo è molto problematico mi fa paura anzi e poi per finire per scusare un po' anche per giustificare perché c'è del buono in questo libro è stato detto e in queste ricerche sono molto interessanti molto provocatorie ma molto interessanti e stimolanti la ricerca sul Gesù storico come su tutti i personaggi storici del passato è un po' dovrebbe seguire il principio di indeterminazione di Heisenberg cioè noi in quanto studiosi studiamo delle particelle elementari piccolissime più scopriamo approfondiamo un parametro più tutti gli altri parametri scappano via voglio dire qui hanno esplorato un parametro ma ignorandone altri e ad altri di esplorare altri parametri poi come dicevi quando potremmo fare una sintesi e un approccio più globale ma non sono sicuro che si potrà fare Marida ma comunque idealmente sì sarà un altro Albert Schweitzer sarà un altro non lo so Sanders IP Sanders ecco delle persone così o dei gruppi così che anche loro chi sono? dei grandi studiosi ma grandi studiosi che sono stati il prodotto di una certa tendenza globale anche lì il gruppo la persona insomma sono fenomeni interessanti però è così direi bisogna metterli in prospettiva stereografica sociologica e anche porci il problema di cosa vogliono questi colleghi per chi scrivono perché scrivono quello che scrivono insomma a ognuno di vedere vedere quello che i nostri colleghi fanno e poi dopo cercheremo anche di autoanalizzarci noi stessi in maniera molto postmoderna però come sapete l'autoanalisi è molto più difficile quindi no è ottimo un franzeum di c'è la buona guerra è una buona guerra che facciamo qui te le dico sì sono tantissime le cose che vorrei dire faccio un po' fatica mi si accavallano nella mente trovo che ci sono state tantissime critiche perfino troppe alcune forse anche non del tutto appropriate cioè nel senso che Crossley Miles alla fine hanno voluto fare un libro che è un libro divulgativo quante pagine sono neanche 300 se avessero dovuto approfondire come pure ha senso però la letteratura apocalittica io sono d'accordo che citare il libro delle parabole di Enoch avrebbe aiutato la loro tesi e appunto non so bene perché non l'abbiano fatto però approfondire un approccio di storia delle idee fai fatica a farlo se hai scelto un approccio di socio politico a Gesù cioè deve venire fuori un libro di 500 pagine idem approfondire il contesto storico più di quello che abbiano già fatto o approfondire che ne so altre cose che sono state lette le lesegesi praticata all'epoca insomma veniva fuori un libro enorme se dovevano fare tutto questo quindi secondo me bisogna anche concedere un po' qualcosa poi per quanto l'intervento di Dario forse alcune cose non le ho capite bene cioè resistenza non violenta io direi che il Gesù di Crossley e Miles praticavano appunto una forma di resistenza non violenta o meglio in cui la violenza era pragmaticamente lasciata al momento in cui lasciata a Dio al momento in cui il regno di Dio avrebbe fatto eruzione quindi perché erano realisti sapevano che era impossibile fare altrimenti un pochino forse da questo punto di vista si avvicinano anche al libro di Bermejo Rubio in cui la violenza appunto è soprattutto anche se Bermejo insiste molto nel dire che Gesù non è vero che era non violento però di fatto anche nel suo caso la violenza è soprattutto mi sembra alla fine per quanto riguarda il martirio il valore spiatorio mi sembra che gli autori lo affermino chiaramente che Gesù pensava che la sua plausibile probabile morte e quella anche di altri suoi seguaci avrebbero avuto un valore salvifico per l'avvento del regno di Dio per la salvezza di Israele poi c'erano tra le tante cose la parabola del buon samaritano qui forse c'è un equivoco a me non sembra che dicano che il samaritano era un sadduceo dicono che il samaritano viene individuato come eroe positivo della parabola perché come i sadducei i samaritani si attenevano solo al pentateuco senza coltivare quelle espansioni alachiche della Torah tipiche di altri gruppi come i farisei come gli esseni quindi il punto della parabola secondo Crossley-Miles sarebbe di denunciare il carattere un po' disumano di chi espandeva la Torah e magari cercava di imporre queste espansioni come facevano come sembrano fare i farisei nella disputa sulla purità dove Gesù appunto non condanna le leggi di purità come ancora a volte si tende a dire ma condanna la tradizione farisaica che vuole espandere le leggi di purità inglobando la necessità di lavarsi le mani prima di mangiare che è una tradizione non biblica una loro tradizione degli antichi quindi Gesù di Crossley-Miles è un Gesù che osserva la legge giustamente Adriano anche all'inizio aveva detto da questo punto di vista ci sono anche elementi conservatori reazionari ma questa osservanza della legge viene praticata in una prospettiva dal basso cioè che va incontro agli interessi dei contadini e dei poveri secondo me qui è un aspetto molto positivo del libro perché di solito le letture politiche di Gesù rappresentano un Gesù molto estraneo all'osservanza della Torah o che pongono un conflitto radicale tra Gesù e il Tempio non l'aristocrazia del Tempio ma proprio il Tempio in quanto tale come istituzione Crossan appunto il caso di Crossan senz'altro io non vedo grande vicinanza tra Crossley e Crossan a parte il nome e a parte sicuramente magari la contestualizzazione ecco la lettura del contesto storico-politico questo sì ma il loro Gesù sono molto gli antipodi secondo me anche Horsley sicuramente è più vicino a Horsley Horsley però differenziava differenzia molto fa una contrapposizione tra la cultura israelita del nord e la Galilea in antitesi con quella giudaita di Gerusalemme secondo me il libro di Crossan Evita questi aspetti problematici molto bene e offre una lettura politica di Gesù convincente come per molti aspetti da questo punto di vista è convincente quella di Bermejo oppure anche quella di Adriana Destro e Mauro Pesce pensavo anche sul fatto che la questione di quanto fosse drammatica una situazione sociale economica in Galilea questo su cui si è soffermato in particolar modo Marco sicuramente loro propendono per una rappresentazione estremamente conflittuale c'è da dire che questo è un argomento molto divisivo nell'ambito della ricerca cioè proprio direi non so 50-50 quelli che dicono che la situazione era molto molto grave e altri invece che era più più serena tant'è che in questo libro sulla Galilea Galilei in the late second temple nel missionary period c'è proprio un dibattito c'è un articolo che sostiene quello di Oakman una situazione molto conflittuale e l'altro di Overman una situazione più serena loro optano per quella secondo me uno dei migliori studiosi di questa questione David non so come si pronuncia Fiancy Fiancy non so mi sembra che non venga citato nel libro lui tende a dire che la situazione non era al collasso sicuramente però c'era altrettanto sicuramente una certa pressione sui contadini e d'altra parte se non ammettiamo che ci fosse una situazione problematica non riusciamo nemmeno a rendere ragione di tutto quello che leggiamo nei Vangeli delle critiche contro i ricchi e la ricchezza su cui Crossley e Miles insistono molto a ragione ma anche Adriano Destro e Mauro Pesce nel libro sottolineano molto che la società stava attraversando una situazione di sfaldamento nei villaggi e quindi penso che il materiale gesuano nei Vangeli lo attesti chiaramente ultimissima cosa sul Vangelo di Giovanni sì qui probabilmente si sente l'influenza del mentore di Crossley Morris Casey che probabilmente è il più grande detrattore del Vangelo di Giovanni che ci fosse nel mondo della ricerca la questione dell'ermeneutica antigiudaica e sostituzionista dei Vangeli di Giovanni è ancora aperta pensiamo di questo parere sono la Reinhard o anche Cool Pepper quindi ci sono autori molto autorevoli anche se effettivamente iniziano ad essere un po' in minoranza secondo me alla fine Crossley e Miles non concedono quasi niente ai Vangeli di Giovanni sì ci sono un paio di punti in cui dicono involontariamente il Vangelo di Giovanni forse diceva qualcosa ma sostanzialmente la loro lettura sinottica penso che sia piuttosto coerente casomai secondo me avrebbero potuto cercare di distinguere nell'Evangelo di Giovanni una questione delle magari edizioni diverse o comunque una tradizione che si è sviluppata perché forse all'inizio c'era una tradizione secondo me che aveva dei tratti messianici e millenaristi ed era completamente giudaica e diciamo la la deriva anti-giudaica è avvenuta un po' in una edizione successiva ho detto anche troppo grazie Giovanni Sì sì grazie scusatemi per il sole che vive in un posto in cui il sole non c'è mai quindi nove tapparelle questo questo fatto è inatteso grazie a tutti perché è molto interessante aver partecipato questa avere l'opportunità di partecipare a una conversazione così perché questo mi dà il modo di vedere punti di vista che sono diversi da quelli degli interlocutori che normalmente ho su queste questioni volevo dire volevo dire che sottoscrivo quasi interamente quello che Federico ha appena detto ma senza andar nel dettaglio perché l'ha già fatto volevo fare una riflessione più generale sulla sulla questione della ricerca sul Gesù storico no perché da un certo punto di vista ci dibattiamo un po' in difficoltà che sono complicate complesse da un lato giustamente si è fatta la critica Eric faceva la critica degli autori che si pongono loro stessi come big men e questo è verissimo specialmente per autori che scrivono all'interno del contesto anglofono in realtà un'analisi è facile da fare nel senso che fa parte di un contesto neoliberista in cui l'intera accademia l'intero lavoro accademico si svolge bisogna produrre cose rapide che siano provocatorie giustamente Federico diceva questo è un libro anche per la per la diffusione al di là dei circoli accademici strettamente intesi e in quel senso potremmo vedere Crossley e Miles che lavorano all'interno dello stesso paradigma e che si potrebbe dire lo stesso andando indietro non lo so alle figure di Crossan piuttosto che che sono diventi star attraverso la scrittura di libri non simili a questo ma sullo stesso soggetto specialmente quando la questione del giusto storico era veramente una questione popolare il giusto seminare eccetera d'altra parte è anche vero che cercare di resistere a questo è problematico perché l'esempio di J.P. Meyer che è stato menzionato diverse volte qui in quel senso è tristemente emblematico perché si tratta di un autore che ha cercato di analizzare nel modo più dettagliato possibile ogni aspetto di questa questione e purtroppo adesso a parte il fatto che sia scomparso prematuramente purtroppo già quando scrive il quarto il quinto volume della sua opera enorme nessuno lo legge più a livello propriamente delle discussioni accademiche penso anche popolari perché è troppo è troppo e appunto questo c'è modo di dire perché si rimane comunque all'interno di un paradigma di immediata sostituzione immediata per cui la cosa che dura per 24 ore poi viene immediatamente rimpiazzata da un'altra una nuova novità una nuova proposta eccetera senza aver tempo neanche di aver digerito la precedente tantomeno poi discutono tutte le implicazioni su questo non so dare una risposta è veramente una questione problematica certamente è meglio siccome siamo in questo contesto dire è meglio un lavoro che avviene attraverso collaborazione comunicazione scambio tra studiosi invece che il contrario certamente può aiutare molto di più un'altra cosa che Pierluigi giustamente diceva che si devono un po' guardare queste opere anche all'interno pensando ai pubblici a cui gli autori si rivolgono e i contesti in cui scrivono e senz'altro per Crossley in particolare qui abbiamo il caso di un autore che è stato sempre esplicitamente in conversazione con un contesto politico molto specifico quello dell'Inghilterra contemporanea del Regno Unito contemporaneo mettiamola così ovviamente parla anche con un grosso occhio sugli Stati Uniti ovviamente nei libri su Jesus in the Age of Terror per esempio o post Bush d'epoca Bushana devo dire che è vero dovremmo farlo sempre per esempio qui è stato invocato moltissime volte Tyson nella nostra discussione e giustamente ancora Pierluigi faceva notare che Tyson non fa altro che riprendere teologizzare concetti Weberiani ma ovviamente questi stessi concetti Weberiani per esempio quello del carisma sono il prodotto di tutta l'ottocentesco di tutta la discussione dell'individualismo liberalismo ottocentesco quindi in teoria dovremmo dire dovremmo dire che è molto problematico importarli all'interno dei nostri studi in effetti adesso non si dovrebbe neanche poi fare più anche perché poi di per se stesso questa mossa porta con sé certe implicazioni di non voglio dire supersessionismo ma certamente di cambio di idealizzazione dell'originalità del Gesù storico che sono problematiche specialmente se facciamo un discorso in relazione al giudaismo eccetera però ad altra parte ci sono delle acquisizioni che la quest nel suo progresso secolare ha portato una di queste è certamente il fatto che adesso nessuno di noi può scrivere un libro sul Gesù storico senza considerare in qualche modo il giudaismo di Gesù che vuol dire cent'anni fa non sarebbe stata esattamente la stessa cosa questo è un dato di fatto con il fatto che c'erano già degli autori pesce ha scritto su questo ma ci c'erano sono sempre stati degli autori che hanno rivendicato l'ebraicità di Gesù ma adesso è un punto irrinunciabile no e questa è senz'altro un'acquisizione che dobbiamo mantenere in qualche modo penso che abbiamo la responsabilità di mantenere poi io e Marida saremo disaccorti sulla lettura dell'antigiudaismo nel Vangelo di Giovanni probabilmente però rimane il fatto che è un punto che adesso si deve discutere è molto dibattuto ma giustamente e la stessa cosa si potrebbe dire non lo so per le acquisizioni del femminismo nei termini della lettura di questi testi del protocristianesimo specialmente perché sono quelle letture lì quelle che originalmente all'inizio negli anni 70 80 hanno scardinato un po' l'idea del big man in questo senso hanno cominciato a scardinare effettivamente quest'idea e va dato merito a queste per lo più studiose con difficoltà è per quello che proprio la stessa ragione che noi diciamo non si può scrivere libri sul Gesù storico senza considerare le radici giudaiche in qualche modo e poi lì si discute anche come allo stesso modo dovremmo probabilmente fare lo stesso ragionamento per allora questo big man essendo un uomo maschio come si rapporta al gruppo e in questo senso il libro secondo me una cosa positiva è questo sforzo di pensare il movimento e che poi è un sforzo incompleto e problematico ma penso che finisco ribadendo quel che ho detto prima secondo me è un po' la stessa natura della proprio del genere storiografico e letterario del testo che se vuole scrivere la vita di questo Gesù e allora lì si entra secondo me rinunciabilmente in una serie di problemi che ovviamente il movimento come lo si poi come lo si inserisce e anche queste trasformazioni di carattere socio economico dei mezzi di produzione come le si tematizza perché è verissimo quello che credo Dario Garribba ha detto non è che in questo momento del regno della tetrarchia di Erode Antipa ci sia una trasformazione dei mezzi di produzione in atto e questo non lo si può dire e c'è una trasformazione politica per l'avvento dell'impero romano nel Levante nella zona della costa orientale del Mediterraneo e quella ha delle influenze profondissime ma non quelle del mutamento dei mezzi di produzione che verranno dopo nella tarda antichità all'inizio dell'epoca medievale per la transizione del sistema agrario a quello feudale e allora lì la questione diventa bisognerebbe spostare l'attenzione storiografica su quel tipo di trasformazioni se uno vuole fare un'analisi mentre sulla questione del Gesù storico allora lo si deve inserire nel contesto nel contesto in cui si trova va bene grazie 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 Giovanni io velocissimamente voglio dire soltanto una cosa perché volevo risentire anche nei commenti di Caterina e Marco Finale cioè io sono molto d'accordo con questo fatto tutte le volte si scrive o su Gesù o come ho fatto anch'io su Paolo non è pensabile che uno scriva tutto di tutti perché veramente se no è il problema di me e è giusto che uno però il problema è per me il problema rimane come farlo senza che nessuno si senta escluso perché tutti noi diciamo che non si può non si può capire Gesù non si può capire Paolo non so se non con un approccio multilaterale multidisciplinare prendendolo a punti di vista insomma eccetera cioè l'importante per me sarebbe trovare un sistema per cui uno non riesca come non riesco io che dice sì va bene non importa che parli di Enoch ma perlomeno potrebbe sapere quello che si dice di Enoch cioè mi spiego Federico non è che uno debba aver scritto tutto quello che parlare anche del giuraismo di questo di quell'altro in tutti gli aspetti cioè se no uno scrive un volume unicilopedia però bisognerebbe riuscire a non dare l'impressione agli altri che una che uno non sa quello che ha fatto l'altra mano non so cioè nel senso io ti parlo soprattutto poi come una persona che si interessa soprattutto al giuraismo del secondo tempio molto spesso leggendo gli studi di neotestamentaristica o sul Gesù storico uno ha quasi l'impressione che non si sappia nulla di quello che si discute sul che si sta producendo sul giuraismo del secondo tempio probabilmente viceversa però ecco come si fa come si fa veramente a rompere queste questi vasi non comunicanti cioè come si fa a non scrivere un volume di 1500 pagine ma al tempo stesso a non lasciare l'impressione alle diverse componenti che non si conoscono che non si conoscono che si ignora o si affermano delle cose che poi dopo non sono vere rispetto alla ricerca che si fa in questo periodo e poi ovviamente ci sono anche i problemi come diceva Giovanni oggi il discorso del rapporto tra Gesù e il giudaismo ovviamente non può essere eluso non soltanto per questioni culturali ma proprio perché è un'acquisizione della ricerca contemporanea però ripeto per me rimane anche da questo incontro cui ho veramente moltissimo apprezzato il fatto che ci siano stati apporti da diversissimi punti di vista e rimane il problema di come questi elementi diventano complementari diventano complementari e si integrano alla vicenda finisco qui perché veramente volevo essere breve volevo sentire un momento anche Caterina e Marco una breve reazione una cosa brevissima scusate io ho notato anch'io la cosa che ha detto Federico cioè questo libro è un libro che è un libro di divulgazione è in una collana di divulgazione quindi c'è anche una volontà editoriale una collana che si chiama Zero Books evidentemente sono libri di base quello che io mi stupisce è perché proporre una prospettiva così nuova di ricerca all'interno di un libro di divulgazione non è che ho la risposta per carità però mi chiedo perché valeva la pena forse di proporlo all'interno di un libro più tradizionale più scholarly per dire e il e il la questione è anche l'altra questione è anche forse la soluzione a questa aporia cioè non scrivere un'enciclopedia su Gesù è rinunciare alla forma vita la forma biografia e affrontare soltanto degli argomenti singoli non so penso come hanno fatto destro e pesce la morte di Gesù punto e che pure lì magari si vorrebbe dire ancora altre cose però affrontare singoli problemi la morte di Gesù Gesù e i ricchi Gesù cioè in modo tale che appunto si può dare un po' più conto in maniera un po' più dettagliata un po' più articolata delle diverse delle diverse discipline che si sono occupate di questa che si sono occupate dello stesso argomento io avevo una cosa brevissima da dire a Marita sulla morte regale anche la morte di Matteo è una morte regale non so se tu hai avuto occasione di vedere il libro di Aus sulla vita di Gesù il rapporto tra la vita di Gesù e l'aggadà Aus ha scritto un libro sulla adesso non mi ricordo il titolo poi lo recupero eventualmente sull'aggadà e ha fatto dei paralleli secondo me interessantissimi e potrebbero essere forieri di tantissime riflessioni sulla ritualità sui simboli della regalità all'interno della tradizione giudaica sulle analogie tra la morte di Gesù in Matteo e il racconto che si fa nella tradizione giudaica posteriore e in Giuseppe del sacrilegio del re Azzaria cioè quando entra nel entra nel 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 tempio e entra nel tempio e offre l'incenso nel libro nel libro delle cronache si dice semplicemente che diventa lebroso nella tradizione giudaica e in Giuseppe Flavio nell'antichità Giuseppe Flavio si dice anche che c'è un terremoto e le analogie sono veramente molto forti appunto Aus in questo libro sulla gada ha sottolineato come alcuni elementi della biografia di Gesù sembrano tratti da elementi aggatici cioè quindi da racconti che in realtà sono stati in origine raccontati con altri personaggi con altri protagonisti quindi non è poi vabbè l'aspetto mix si è occupato dell'aspetto regale di Gesù nel Vangelo di Giovanni se non mi ricordo male anche quella è una cosa molto interessante soprattutto per la per la per la la paragone tra il parallelo tra Gesù e Mosè quindi come dire è anche quella della come dire dei paralleli aggatici tra Gesù e Mosè è un altro argomento interessantissimo che all'epoca Brown ha accennato ma che è anche lì è una una quantità enorme di materiale che si potrebbe che si potrebbe studiare in questo senso questo così come annotazione e ringrazio di avermi dato l'occasione di partecipare a questo dibattito pur non essendo io una specialista di nuovo testamento né di ricerca del Gesù storico ma è è un argomento che comunque a me interessa tantissimo e che trovo molto vicino in realtà è il contrario cioè io prendo il nuovo testamento come quando quando mi occupo di cose giudaiche prendo il nuovo testamento come testo giudaico e vedo che cosa ci posso fare come appunto in un articolo che parlava di tutt'altro che parlava del terremoto nella tradizione giudaica ho messo anche la morte di Gesù in Matteo quindi io faccio diciamo io sono una mera sfruttatrice del vostro lavoro comunque grazie Marco allora mi sentite sì è un'osservazione molto breve riguarda certi aspetti del metodo perché talora si ha l'impressione che questi due autori come dire facciano prevalere un po' troppo la teoria sui dati testuali o sulle evidenze concrete è complice anche un ricorso a mio giudizio non sempre molto consolato al criterio della verosimiglianza quelli che loro chiamano l'immaginazione storica ho contato non so quanti riferimenti ogni tanto loro dicono beh bisogna ricordare l'immaginazione storica che significa nient'altro che scavalcare completamente le fonti per elaborare un po' delle ipotesi che sono destinate poi a rimanere delle mere congetture la più devo dire quella che ho trovato veramente assusta ma che loro stessi ad onore del vero riconoscono essere una lo chiamano una speculazione e quella della presenza nella folla che avrebbe richiesto la la crocifissione di Gesù di seguaci che avrebbero in qualche modo voluto favorire il sacrificio volontario di Gesù questa veramente è una cosa cioè io voglio vorrei dire ma quale utilità può dare alla ricerca storica una una fantasia di questo genere che non è supportata da nessun elemento nelle fonti secondo me non dà nessun tipo di apporto ripeto loro stessi riconoscono che è una mera congettura però questo appunto mi porta a chiedermi ma che utilità può avere ma porto altri due esempi che secondo me sono significativi uno è quello dell'itineranza secondo loro l'itineranza del movimento di Gesù sarebbe determinato diciamo da esigenze economiche non da motivazioni ideali in particolare la presenza al seguito di Gesù di veri e propri sradicati sociali mi sorge spontanea la domanda ma dove cioè quale indicazione all'interno dei Vangeli ci dice una cosa del genere tutti i discepoli poi qualcuno mi coseggerà tutti i discepoli di cui noi sappiamo qualcosa della loro condizione sociale non sembrano essere affatto degli sradicati e anzi ci sono tra i discepoli che seguono Gesù addirittura delle donne benestanti come Giovanna la moglie di Puzza l'amministratore di Erode che finanziano il movimento c'è un gabelliere appunto i figli di Zebedeo che non saranno imprenditori sono d'accordo non si potrà definire la loro condizione come condizioni di imprenditori ma sembrano avere un minimo di stabilità economica l'unico personaggio che mi viene in mente magari ce ne saranno degli altri ma non credo che mi viene in mente che è un vero e proprio come dire sradicato sociale e Bartimeo ma Bartimeo si colloca Gerico cioè non può essere spiegato con la situazione economica della Galilea e quindi degli effetti delle innovazioni apportate d'antica poi brevissimamente ah è l'altro esempio che invece è una vera e propria forzatura devo dire loro interpretano appunto diciamo c'è l'idea dello sfruttamento della città sulla campagna dell'elite sui contadini e questa è una cosa va bene diciamo come dire con cui si può concordare ma per sostenere questa loro idea loro addirittura a un certo punto fanno riferimento a un passo di Flavio e Giuseppe in cui Giuseppe avrebbe detto che Antipa era un amante del lusso perché loro con questo vorrebbero rincostrare insomma questa vita lussuosa che certamente Antipa aveva ma diciamo collocherebbe Antipa al vertice di questo sistema di sfruttamento però se vai a leggere poi quel passo in greco dice tutt'altra cosa lì si dice la definizione Agapon Ten Esiuchian chiunque conosca minimamente il greco sa che Esiuchian vuol dire tranquillità ma non c'è solo l'aspetto meramente linguistico se si va a vedere il contesto è la palissiana che non si tratta di quello ripeto è un esempio solo per dire che a volte si avverte quasi la prevaricazione della teoria sui dati però ripeto questo non è che voglia solo fare critiche a questo libro che anzi ho apprezzato per tanti aspetti soprattutto il fatto che come dire faccia un po' da consaltare a tutta una tradizione di studi di matice teologica che ha spiritualizzato troppo la figura di Gesù e il suo movimento quindi da questo punto di vista colgo come un buon contributo quello dei due autori l'ultimissima cosa ma speramente sono accennata a proposito del Big Man e del tema della legge ma cioè il Vangelo di Marco a un certo punto dice che lui non insegnava come gli scrivi ma come uno che aveva autorità e nelle antitesi lui da che è di Matteo lui dimostra questo approccio alla legge per cui non so fino a che punto si possa considerare Gesù una sorta di maestro alachico eh solo solo questo no per dire che sono d'accordo con Noff che a volte mi pare che l'esigenza di collocare Gesù nel giudaismo che c'è a prescindere voglio dire che la sua collocazione indiscutibile porta poi secondo me a degli eccessi tesi a diluire o sbilire troppo ogni elemento di possibile originalità ecco mi fermo qua paterina vorrei una battuta una cosa brevissima in realtà c'erano delle interpretazioni della legge molto estreme noi lo vediamo per esempio lo testimonia Filone Alessandrino c'erano degli allegoristi dei questi che degli allegoristi che arrivavano fino al punto di dire se le leggi sono allegoriche noi non dobbiamo più rispettarle lui ovviamente non la pensava così però anche questo faceva parte del giudaismo diciamo che la posizione di Gesù poteva essere quella di un ci sono dei nella letteratura mitrashica si fa riferimento a interpretazioni di tipo ereticale una di queste interpretazioni era quella dei cioè gli interpreti dell'importanza cioè persone che ritenevano che andava cercata la come dire il nucleo di importanza di una legge e non il suo aspetto letterale in qualche modo è possibile che Gesù vada inteso in questo modo cioè come una persona che aveva un esegesi poi appunto bisognerebbe capire bisognerebbe fare io non sono esperta di questo ma sarebbe anche cercare di capire se per caso lui non è diventato più interprete nella tradizione successiva l'hanno fatto diventare più maestro più rabbino con più capacità dialettiche per esempio questa applicazione delle regole di Hillel se non è una cosa sovraimposta se certe citazioni bibliche non sono sovraimposte di quello io sono quasi sicura che molte citazioni bibliche siano sovraimposte per cui bisognerebbe vedere però che fosse anche se lui avesse avuto un'ermeneutica completamente radicale riguardo alla legge questo non lo metteva al di fuori del giudeismo semplicemente ne faceva un giudeo particolare come veramente ce ne erano tantissime se uno vede io ho studiato tanto Artapano Artapano è pazzo con un cavallo però sempre giudeo era quindi per dire c'erano veramente tanti tipi di giudeismo e anche un'idea di autorità maggiore io ogni volta che penso a Matteo che fa nascere Gesù come Mosè e anche Luca lo fa nascere come Mosè perché ci sono delle somiglianze con la Gadà su Mosè quindi non con il testo biblico ma con testi non biblici e i Vangeli dell'infanzia che hanno fatto pensare a Brown che i Vangeli dell'infanzia fossero tutti calcati sulla storia di Mosè se Gesù se qualcuno tendeva a rappresentare Gesù come Mosè significava che era un'autorità superiore che poteva anche abrogare una legge perché una legge può essere abrogata soltanto dalla stessa autorità che l'ha emessa per cui una regola rabbinica la può abolire un rabbino ma una regola fatta dalla grande assemblea non la può abolire nessuno perché non c'è più la grande assemblea e così pure a maggior ragione una legge di Mosè perché non c'è più Mosè ma nell'ottica dei Vangeli dell'infanzia non è vero che non c'è più Mosè Mosè c'è ed è Gesù è ovvio che questa è una cosa superiore è una costruzione che si fa dopo però anche questa come dire è una cosa di cui noi dobbiamo tenere conto nella costruzione dell'interpretazione quella che io chiamo l'interpretazione biblica di Gesù l'interpretazione della legge o dei profeti o degli altri scritti citatissimo anche Proverbi che è un libro che a momenti nemmeno era canonico ai tempi di Gesù eppure è citatissimo nel Nuovo Testamento stiamo siamo veramente in conclusione non so se Dario o Marita avete un un ultimo cosa da dire io stavo a Marita a Marita a Marita prima a Marita una battuta bravissimo che Gesù fosse matto come un cavallo e attestato pure da Marco e da Giovanni fuori di testa quindi perché no anche questo aspetto Dario io velocissimo mi allino con le cose con le osservazioni fatte da Marco poco fa ci tengo a sottolineare una cosa che sta più volte detto come ha detto benissimo Gianni Pazzana il recupero di Gesù e il giudaismo nel giudaismo è una indubbiamente un dato ormai incontrovertibile ma io parlerò di una triangolazione che Gesù giudaismo romanità perché il vero punto è che non c'è un giudaismo che non sia in relazione con la romanità nel momento in cui Gesù è al mondo per cui lì si gioca una triangolazione che secondo me innesca varie cose rispondo velocissimo a Federico io accolgo tutte le obiezioni fatte Federico sono d'accordo con te però è anche vero che se un autore come questi due autori decidono di introdurre delle categorie come per esempio quella martiriale e poi le devi sapere argomentare cioè non è che poi cioè è un problema ragione che il libro è divulgativo sono d'accordo con te però è anche vero che siete voi che avete introdotto queste categorie una volta che le introduci poi le devi sapere rendere solide perché se no diventano attaccabili allora se tu introduci la categoria martiriale ma poi non ricostruisci questa categoria nel giudaismo dell'epoca di Gesù diventa debole la tua presentazione capisci? stesso discorso se mi dici che non c'è violenza allora mi devi introdotto questo tema giustissimo e io quello che obietto a questo libro è che mette dei temi interessanti ma poi non li legge perché non ci mette dietro il corredo di fonti che ti permette di dare forza alle tue argomentazioni questa è l'obiezione non che in assoluto le intuizioni sono anche felici però poi c'è un problema bisogna fare un lavoro e se no il lavoro diventa debole diventa quindi attaccabile semplicemente era questo ma sono d'accordo con te che questi temi loro li dico però li devi motivare poi questa era la mia osservazione comunque grazie veramente un pomeriggio fantastico sì bisogna chiudere abbiamo fatto tre ore i migliori incontri sono quelli che si arriva all'ultimo e avevo sempre un sacco di cose da dire insomma per cui da questo punto di vista qui è stato un incontro veramente molto bello io ricevo anche in tempo reale commenti note da ascoltatori le cose insomma abbiamo credo sia stati tutti molto 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 contenti e per credo sia importante ecco anche per il futuro questo fatto che ci permette di stare insieme di avere questo dialogo anche in questo modo anche informale tra quanti di noi lavorano in all'estero diciamo e quanti di voi invece lavorate in Italia perché Giovanni quello di Giovanni è vero ci troviamo di fronte per esempio a una discussione in questo ambito che è un po' diversa da quella in cui siamo abituati noi almeno negli Stati Uniti anche te Pierluigi ne hai lo stesso in Francia o in Canada cioè ogni ambiente poi nazionale ha le sue particolarità ha le sue interessi che poi ci arricchiscono ecco ci arricchiscono ecco tutti noi insomma per cui io ripeto come come direttore di Noste non posso essere più soddisfatto e ringraziarvi con tutto il cuore voi tutti che avete partecipato le persone le tantissime persone che ci hanno seguito da casa per questo per questo incontro e lo prendo veramente come un invito a a ritrovarci di nuovo senza inflazionare diciamo così ma io penserei magari un paio di volte all'anno magari anche su altri temi ecco non necessariamente sul su gesù storico ma continuare questa 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 conversazione perché come come ripeto la prima cosa la cosa che dicevo anche prima ormai nessuno di noi può far da sé ovviamente questo è un dato di base però non abbiamo ancora trovato il modo di essere inclusivi del lavoro che viene fatto ecco come poter parlare di un aspetto particolare di una linea di integrazione particolare non escludendo ma anzi conoscendo quello che è il lavoro fatto dagli altri in altri settori e quindi aumentare le nostre capacità di analisi proprio perché si rafforza questa capacità di ascolto nei confronti delle varie tendenze che esistono sia all'interno della ricerca propriamente sul giro storico che più in generale nella ricerca giuradino del secondo tempo quindi grazie di nuovo che vi devo dire ci vediamo presto per altre occasioni e grazie di nuovo per tutto le bellissime cose che sono state dette per il clima soprattutto che mi è stato ricordato da molti per questo clima veramente positivo entusiasta e amichevole tra amici che abbiamo avuto durante tutto questo incontro quindi grazie di nuovo e a presto grazie a te per l'invito ciao a tutti grazie buona serata grazie a te